Accomodatevi per cortesia e iniziamo i lavori. Buonasera a tutti. Chiedo al Segretario se c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. I nomi non scrutatori per la seduta, i consiglieri Orsola Chiaradia, Isena Peresson e Maria Bonato. Risultano assenti i consiglieri Emanuele Loperfide e Gregorio Martino. Arriveranno in ritardo i consiglieri Loris Pasut, Giacomo Manfrin e i consiglieri Daniello. Comunico che essenzialmente l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in salita consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio che la conferenza dei Presidenti e gruppi consigliari ha deciso il seguente ordine di lavori. Si inizierà con le eventuali comunicazioni del Sindaco, se ne fossero. si esamineranno le interrogazioni, che sono all'ordine del giorno 2. Dopodiché si esaminerà la proposta di deliberazione numero 24 2014, avente ad oggetto modifica regolamento IUC fino ad esaurimento della discussione. Poi trattazione e emozioni fino all'ora 22.30. Si chiuderà la seduta alle 22.30, salvo non si deva proseguire i lavori per l'avvento dell'approvazione della deliberazione. Chiedo al Sindaco se ci sono comunicazioni. Non ci sono comunicazioni. Allora, in riferimento all'articolo 67 del Regolamento del Consiglio Comunale, comunico che è stata fornita risposta alle seguenti interrogazioni e risposta scritta. Interrogazione numero 59 2013, del 23 dicembre 2013, presentata dal Consigliere Emanuele Loperfido, avente ad oggetto criteri, disciplinanti, prezzi, abbonamenti, parcheggi in strutture in Comune di Pordenone. Interrogazione numero 1 del 2 gennaio 2014, presentata dal Consigliere Emanuele Loperfido, avente ad oggetto interventi a contrasto furti in abitazione. Interrogazione numero 6 del 27 gennaio 2014, presentata dai Consiglieri Loris Pasut e Francesca Cardin, avente ad oggetto nuovo ospedale su via Montreale. Quali le motivazioni della demolizione dei padiglioni A e B? Interrogazione numero 7 del 3 febbraio 2014, presentata dal Consigliere Emanuele Loperfido, avente ad oggetto reclami cittadini per sosta indisciplinata. Interrogazione numero 8 del 3 febbraio 2014, presentata dal Consigliere Emanuele Loperfido, avente ad oggetto installazione dispositivi a tempo su semafori cittadini. Interrogazione numero 12 del 13 marzo 2014, presentata dal Consigliere Emanuele Loperfido, avente ad oggetto provvedimenti contro accattonaggio. Interrogazione numero 14 del 17 marzo 2014, presentata dal Consigliere Emanuele Loperfido, avente ad oggetto riorganizzazione uffici comunali. Interrogazione numero 15 del 24 marzo 2014, presentata dal Consigliere Emanuele Loperfido, avente ad oggetto normativa su parcheggi blu. Interrogazione numero 20 del 2 maggio 2014, presentata dal Consigliere Mara Piccin, avente ad oggetto blocco della Corte Costituzionale per l'assunzione negli enti locali. Quali le soluzioni? Bene, come da ordine deliberato in sede di conferenza dei Presidenti, esaminiamo le due interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. La prima interrogazione è presentata dalla Consigliere Sonia e Daniello, pertanto non c'è, la esamineremo eventualmente se nel frattempo arriverà. Passiamo pertanto all'interrogazione numero 57. Interrogazione sui contributi ad associazioni erogate dal Sindaco negli anni 2012-2013. Il sottoscritto Francesco Ribetti, Consigliere del Comune di Pordenone, facente parte del Gruppo Consigliere del Popolo della Libertà, premesso che il Sindaco dispone di somme da erogare ad associazioni in ambito culturale e sportivo. Alcune associazioni non ricevono contributi, a differenza di altre che svolgono pari servizio, almeno apparentemente. Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale del Gruppo del PDL interroga il Sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Quante e quali siano le associazioni che hanno beneficiato di contributi da parte del Sindaco e del Comune negli anni 2012-2013. 2. Quali e quante siano quelle che non li hanno ricevuti, sebbene abbiano presentato domanda. 3. Quali siano i criteri in base ai quali vengono erogati tali contributi. Con richiesta di ricevere, prima della discussione in Consiglio, elenco delle associazioni destinatari ai contributi da parte del Sindaco e del Comune, con indicazione del contributo ottenuto e l'elenco di quelle le cui domande non sono state accolte. Presentata e firmata da Francesco Ribetti, Gruppo Consigliere del Popolo della Libertà. La parola al Signor Sindaco, prego. Grazie Presidente. Vediamo di cercare di dare le maggiori informazioni possibili in un tempo decente. Allora, circa la domanda 1 e la domanda 2, quindi quali e quante siano le associazioni che hanno beneficiato dei contributi e del Comune negli anni 2012-2013, e domanda 2 quali e quante siano quelle che non li hanno ricevuti, eccetera, abbiamo già trasmesso da qualche tempo una lista piuttosto consistente, sia di quanto per i due anni è stato dato alle varie forme, quindi che si parli di sporo, di cultura, di sociale e di ambiente, sia le motivazioni per cui sia nel 2012 che nel 2013 alcune richieste non sono state accolte. Se io, per anche delicatezza, visto che questo era stato un tema rimandato più volte, non ho pubblicato questo file nel sito del Comune e intendo, proprio dopo questo passaggio in Consiglio, pubblicare e inaugurare, possiamo dire così, la parte dei dati aperti nel sito comunale, in modo che poi questo sia visibile a chiunque e commentabile da chiunque. Allora, domanda 3. La domanda 3 è quali sono i criteri in base ai quali eccetera. Allora, io leggo un po' una sintesi che ho fatto su questo punto e che dice i riferimenti per l'erogazione dei contributi sono costituiti dalle linee di intervento dell'amministrazione comunale, come si evincono dallo Statuto, dalle linee programmatiche e dalla programmazione annuale e triennale. Cerchiamo di essere coerenti con quelli che sono stati gli indirizzi che nel momento in cui abbiamo cominciato questo turno amministrativo ci siamo dati. In ultima analisi, attraverso l'erogazione di sostegni economici alle associazioni e ad altri soggetti non aventi scopro di lucro, si perseguono anche in un'ottica di sussidarietà gli obiettivi di intervento negli ambiti del sociale, della cultura e dello sport e più in genere della promozione della socialità che però sono proprie dell'amministrazione comunale. La soddisfazione dei bisogni segnalati non può naturalmente prescindere da quelli che sono i nostri limiti di bilancio. Quindi voi sapete che per quanto riguarda i cosiddetti trasferimenti esiste una voce specifica che noi approviamo al momento della presentazione del bilancio di previsione e successive da cui con appositi atti queste cose vengono destinate e motivate. Sottolineo gli appositi atti proprio per segnalare che nell'ottica della sussidiarietà importi a volte di grande rilievo nel complesso delle erogazioni sono destinate a coprire convinzioni stipulate con le associazioni per il funzionamento e la gestione in particolare di impianti sportivi per la realizzazione di manifestazioni e di attività inserite nell'ambito delle iniziative che caratterizzano i movimenti della vita cittadina quali ad esempio estate in città e le festività natalizie. oltre a questo di particolare entità esiste la convenzione con l'associazione Teatro di Pordenone per il funzionamento del Verdi e da ultimo un'altra voce consistente relativa ai trasferimenti è data dal sostegno sulla base delle norme regionali di materia alle società che oltre alla gestione degli impianti hanno realizzato con l'assunzione diretta di finanziamenti la realizzazione di qualcosa quindi queste società sono state adesso i termini forse non sono correttissimi ma autorizzate a fare determinati investimenti con un accordo con l'amministrazione comunale e quindi questo investimento è stato diluito nel tempo perché il Comune è venuto incontro alle forme di finanziamento che sono state individuate. io credo che il punto che mi spreme di più sottolineare è che nell'interrogazione viene detto la frase che è sottolineata che il sindaco ha disposizione determinate cifre per le associazioni il sindaco non è che disponga a suo piacimento si sveglia la mattina e distribuisce i soldi a destra e a sinistra a determinate associazioni questo accade in realtà attraverso l'esplicitazione di atti tutto quello che si può evincere nel che lei può riscontrare nella documentazione che le è stato dato evidentemente a fronte di delibere che sono state che sono state validate dalla giunta e in queste delibere sono motivate sia i motivi per cui queste cifre sono state regate come altre sì i motivi per cui a volte sono state negate è sempre un terreno che comprendo è al centro dell'attenzione perché si intravede nella interrogazione qual è il fine della discussione noi riteniamo che la vita associativa di questa città pur nelle ristrattezze di bilancio è evidente diciamo la diminuzione di di cifre che sono state date in termini di trasferimento alle varie associazioni in questi ultimi tre anni ma noi riteniamo che questa sia una parte fondamentale nella coesione della nostra città e che sia una politica comunque e sempre insisto con tutti i limiti del caso da perseguire andando avanti proprio per garantire questo clima di coesione e di alla fine apertura e armonia sociale che nonostante i tempi difficili caratterizza la nostra città grazie grazie signor sindaco consigliere Ribetti se vuole dichiararsi soddisfatto o meno prego grazie ringrazio ringrazio il sindaco per la trasmissione dei dati in effetti li avevamo già trasmessi un po' di tempo fa poi su mia richiesta avevamo slittato la discussione quindi gliene do atto e ringrazio anche per la sensibilità di non averli pubblicati sul sito prima di oggi prima di discussione che è odierna beh sindaco lei mi ha tirato un po' per la giacchetta adesso soprattutto con l'ultima frase no quando diceva quando diceva i contributi che e beh e d'altronde che i contributi abbiano siano stati ridotti subito dopo le scorse elezioni amministrative non l'ho detto io ma l'ha sottolineato la stampa ma io sono anche fiducioso che a ridosso delle prossime troveremo di nuovo un aumento dei contributi magari magari andando andando a erodere da qualche altre voce io sono sono convinto che sarà capace di questa alchimia comunque ognuno ha le convinzioni che ognuno si tiene le proprie convinzioni parleremo nel 2016 lei ha detto bene e su questo è forse una delle poche volte che sono d'accordo con lei è giusto no veramente è una delle poche volte che sono d'accordo con lei sul fatto che ci sia un tessuto di associazioni di società piccole società di gruppo chiamiamolo anche gruppo di amici tra virgolette che credono in qualcosa che debba che debba trovare che debba trovare finanziamenti e risposte diciamo anche in termini economici nell'amministrazione questo è giusto anche perché serve per tenere viva la città io ho fatto un passaggio alla mia interrogazione questa interrogazione mi era stata sollecitata chiaramente non dirò da che associazione da un'associazione che non era stata destinataria di un contributo di un contributo mentre altre associazioni del medesimo tipo lo erano state allora volevo capire le motivazioni e francamente non ritrovo questa associazione in questo elenco e la persona di riferimento purtroppo in questo periodo ha avuto dei problemi non riesco ma eventualmente in privato farò un'altra interrogazione richiesta scritta più mirata però un passaggio tengo a sottolineare allora è chiaro lei prima ha detto non è che il sindaco dispone di queste somme passiamo dalla giunta possiamo metterla come vogliamo io credo che il sindaco in giunta riesca a spingere a spingere diciamo a indirizzare mettiamo così secondo la propria sensibilità verso dove ritiene più meritevole meritorio usiamo il termine che vogliamo però leggendo i dati delle escluse se posso concordare con lei che è giusto magari escludere delle associazioni che ricevono già delle magari che hanno una convenzione hanno una struttura in convenzione utilizzano già una sede magari mi chiedono un ulteriore contributo per l'attività allora a quel punto magari è giusto che l'amministrazione in un periodo di risorse limitate dica guarda ti aiutiamo già in una maniera magari questi soldi li destiniamo ad altri quindi su questo posso concordare dove però non posso concordare con voi è quando escludete alcune associazioni perché hanno un sto cercando la parola esatta un grande avanzo di amministrazione sai perché non posso concordare sindaco l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle a livello regionale mi ricorda tanto che cosa la regione Friuli Venezia Giulia che viene chiamata da Roma a versare i 650 milioni di euro per coprire il buco della sanità nella regione dove hanno sperperato allora se il criterio che l'amministrazione vuole dare è quello di tu associazione virtuosa associazione che sei brava associazione che magari sei brava a trovarti i contributi sei brava a gestire i soldi sei brava a utilizzarli io non ti aiuto perché devo andare a aiutare chi magari non si sbatte scusate il termine per andare a cercare il contributo oppure e aspetta solo che gli arrivano i contributi a pioggia beh francamente io credo che non sia un criterio meritorio di questa amministrazione è giusto è giusto che chi ha di più riceva magari di meno come contributi soprattutto in periodi risorse scarse però non credo che sia un criterio che l'amministrazione deve seguire quello di dire tu sai già come stare in piedi arrangiati no perché allora secondo me a quel punto noi andiamo diciamo spingiamo le associazioni e la gente che magari viene a richiedere a dire vabbè tanto ci pensa il comune tanto ci pensa il comune no ecco io credo che un criterio del banca è essere magari sei stata brava ti do un aiuto te ne do di meno perché te ne serve di meno ma per farti vedere che siamo qua per tutti perché le associazioni svolgono poi tutte lo stesso diciamo ruolo associativo aggregante di sviluppo di qualcosa quindi è giusto che tutte vengano valutate ecco ritengo che questo sia un criterio che l'amministrazione forse dovrebbe cambiare quindi su quell'aspetto in particolare non posso assolutamente essere soddisfatto poi prendo atto perché i soldi in questo momento li gestisce lei forse ancora per due anni spero quindi spero che con la prossima amministrazione vengono erogati poi in maniera diversa grazie grazie consigliere bene passiamo ora all'interrogazione numero 19 al signor sindaco comune di Pordenone al presidente del consiglio comunale di Pordenone oggetto cantare a Pordenone bella ciao canzone partigiana constatato che ci sono state parecchie prese di posizione sulla prima decisione del prefetto del comitato per l'ordine e la sicurezza di cui fa parte anche il comune che la scelta del prefetto di Pordenone concordata e sottoscritta a tutti i presenti è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare dopo la scelta di non far suonare ed intonare bella ciao chiedo perché e da quali presupposti si aveva pensare che a Pordenone ci siano cittadini facinorosi e tali da far indurre a pensare che un canto per l'appunto bella ciao cantato in tutte le piazze e città italiane potesse essere fonte di tensioni sociali perché prima di fare proprio la sortita quanto mai naife non si è considerato che questa potesse provocare una risposta indispettita da più parti proprio perché la canzone riconosciuta quale canzone antifascista da seconda guerra mondiale se non se ne intravede nella scelta iniziale una sorta di superficialità dannosa per il valore storico della canzone per il rispetto che il sindaco ha sempre affermato nei confronti di coloro che hanno perso la vita per la nostra nazione e la verità storica dei molti italiani che hanno combattuto si sono opposti e hanno rischiato la propria vita a volte morendo per un idealare un valore la libertà e la patria e infine se non si abbia pensato ai risvolti per l'immagine della città già oggi molto provata dal momento storico di enorme difficoltà economica e sociale una città accogliente e volta a superamento di paure istintuali e pretestuose che nulla hanno a che vedere con una città matura e preoccupata per ben altre questioni filmato Daniele Ossoni a gruppo misto la parola al sindaco no all'assessore Zille prego assessore buonasera allora riguardo a questa interrogazione voglio prima di tutto sottolineare il ruolo che ha il comitato per l'ordine della sicurezza che appunto il comitato è un luogo istituzionale che opera con il coordinamento del prefetto ed ha lo scopo di esaminare situazioni meritevoli di attenzione o di interventi volti ad assicurare che la vita sociale della comunità abbia a svolgersi in condizioni di sicurezza e di armonia e a decidere azioni e comportamenti utili a questa finalità la presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine ai massimi livelli è finalizzata a fornire elementi di conoscenza e di analisi utili all'assunzione poi delle decisioni che vengono prese decisioni più idonee che vengono prese dal comitato stesso ecco faccio questa promessa per capire come si svolgono le cose all'interno e qual è il ruolo a questo comitato poi vado questa interrogazione è formulata con diverse domande quindi chiedo la cortesia se posso scandire anche è stata già letta ma i vari passaggi per cui ho predisposto la risposta ci sono delle domande perché e da quali presupposti si abbia a pensare che a Pordenone ci siano cittadini facinorosi e tali da far indurre e pensare che un canto appunto appunto bella ciao cantata in tutte le piazze e città italiane potesse essere fonte di tensioni sociali la valutazione circa le modalità più idonee a far sì che la manifestazione potesse svolgersi in un clima di serena partecipazione da parte della cittadinanza è stata effettuata nell'ambito del comitato per l'ordine della sicurezza che prima ho ricordato posso garantire che in quella riunione nessuno ha fatto riferimento a cittadini facinorosi bensì ad una situazione generale di ordine pubblico condizionata da tensioni sociali così come era potuto rilevare anche nella precedente in quei giorni lì manifestazione svoltasi a Roma e nella quale era stata individuata la presenza di gruppi antagonisti organizzati che hanno che così è stato indicato che avevano legami anche col territorio del nord-est quindi la parte politica che va lì ascolta quelle che sono le indicazioni da parte delle forze dell'ordine che hanno il quadro della situazione e su quella base di questi elementi di informazione forniti dai rappresentanti delle forze dell'ordine la manifestazione del 25 aprile è stata quindi ricondotta alla sua più stretta forma istituzionale in poche parole come si è fatto negli altri anni preciso che non è stato espressamente dai presenti indicato di vietare il canto non è stato è stato ritenuto più opportuno che fosse intonato alla fine questo è quanto si è detto in quell'organo e in quell'ambito alla luce di quanto ripeto riferito dalle forze dell'ordine perché e vengo alla domanda successiva fatta dalla consigliera perché prima di far propria la sortita quanto mai knife non si è considerato che questa potesse provocare una risposta indispettita da più parti proprio perché la canzone è riconosciuta quale canzone antifascista della seconda guerra mondiale tutte le considerazioni che sono state svolte in quella sede lungi dall'essere knife si sono misurate proprio con il tema principale cioè poter garantire lo svolgimento regolare e soprattutto di quella manifestazione e quindi è stata sempre valutata ed esaminata nel quadro descrittivo ripeto portato dalle forze dell'ordine che sono intervenute chiaro che io non vado a dire perché è un'attività che deve essere chiaramente anche rispettata e secretata in determinati aspetti l'altra domanda se non se ne intravede nella scelta iniziale una sorta di superficialità dannosa per il valore storico della canzone per il rispetto che il sindaco ha sempre fermato nei confronti di coloro che hanno perso la vita per la nostra nazione e la verità storica di molti italiani che hanno combattuto si sono opposti e hanno rischiato la propria vita a volte morendo per un ideale ed un valore la libertà e la patria è il caso di osservare che sarebbe assai riduttivo pensare che il rispetto dei valori fondanti della nostra Costituzione nata dalla guerra di liberazione possa essere manifestato solo attraverso modalità di organizzazione di una cerimonia istituzionale ben più concretamente affermative di questi valori sono le scelte di perseverare l'integrità etica morale nell'istituzione di promuovere ogni attività i diritti la libertà di tutte le donne di tutti gli uomini e la loro ugualianza di salvaguardare sempre l'esercizio delle libertà democratiche di rispettare l'istituzione in tutte le loro componenti e articolazioni e infine tornando alla sua parte della sua domanda se non si abbia pensato ai risvolti per l'immagine della città già oggi molto provata dal momento storico di enorme difficoltà economica e sociale una città accogliente e volta al superamento di paure istintuali e pretestuose che nulla hanno a che vedere con una città matura e preoccupata di ben altre questioni io ritengo che la nostra città è certamente matura ad accogliere e lo ha dimostrato in particolare in questi anni nei quali ha saputo rispondere con alto grado di civiltà alle forti sollecitazioni derivanti dei grandi cambiamenti sociali e dalla crisi economica si è sempre lavorato per accogliere e per non lasciare nessuno indietro si è sempre garantito come primo obiettivo l'esercizio dei diritti da parte dell'intera comunità su questi temi e su queste azioni si misura il rispetto dei valori sanciti con la liberazione e solo la caduta o la messa in discussione di uno di questi potrebbero provocare una caduta di immagine della città che certamente non c'è stata il resto sono così secondo me si è andati un po' sopra le righe da tutte le parti secondo me e quindi sono polemiche che possono secondo me andare oltre in conclusione devo dire va anche osservato che ferma restando la parte formale della cerimonia istituzionale il canto bella ciao non è stato vietato come ho ripetuto e ciascuno ha potuto intornarlo insieme ai cittadini presenti che hanno partecipato al canto e pressoché tutti i rappresentanti io compreso delle istituzioni abbiamo cantato e partecipato a questo canto ecco questa è quanto io posso riferire avendo partecipato per conto del comune direttamente a questa commissione grazie grazie assessore prego consigliere daniello io non sospiro perché a me non piace intervenire su questo argomento guardi avrei preferito farne a meno con un'amministrazione di centro sinistra assessore zille guardi ma di tutto di sinistra allora sì ho detto centro sinistra sono soddisfatta boh non so se sono soddisfatta nel senso che mi fa ancora più pensare che è stato pretestuoso è superficiale il non intervenire immediatamente continuo a ripeterlo in una considerazione naif da parte del prefetto giusta è? mica io non sto contestando il prefetto ha fatto cosa buona e giusta probabilmente noi potevamo anzi l'amministrazione no perché io non sono più noi potevamo intervenire in modo diverso tant'è che c'è stata un'interrogazione parlamentare la mia interrogazione che non vale nulla una mozione del PD su tutti i canali Rai siamo stati dati come trafiletto su Rai News 24 continuava a insistere Pordenone nega la canzone Bella Ciao Rete 4 Canale 5 l'unità il fatto quotidiano avvenire Vabbè continuo io sto dalla mia assessore Zile non c'è nessun problema lei pensa di aver fatto cose buone giusta io credo che un po' mi sarei aspettata invece come ha fatto il prefetto la retromarcia ha messo la retromarcia dopo i primi mugugni che ci fosse stata anche da parte sua non dire mea colpa ma neanche dire che ho sbagliato completamente l'intonazione dell'interrogazione sì ma dopo bisognava intervenire e dire un momento guardate che a Pordenone non c'è nessun problema e nessun non c'è nessun nucleo che interviene come aveva fatto nei giorni precedenti alla canzone a Roma ma quando mai insomma via Pordenone è continuo a insistere matura e lo ha dimostrato proprio in quell'istituzione in quel momento istituzionale Assessore Zille prendendo atto cantando cantando tutti perché si sono messi a cantare tutti bella ciao in modo composto e sereno senza fare nessun altro atto e nessun'altra dimostrazione grazie grazie consigliere Daniello bene le interrogazioni sono terminate passiamo ora secondo l'ordine deliberato in commissione capigruppo alla proposta numero 24 2014 modifica regolamento IUC prego 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 grazie presidente prendo la parola per per fare una mozione d'ordine francamente l'ho già anticipata prima a passano come stavo sedendo in aula consigliare e ho dovuto evidenziare il mancato rispetto della tempistica di convocazione della commissione ma soprattutto per quanto riguarda la mia persona anche la mancata convocazione nelle modalità da me richieste perché io ho richiesto la convocazione che la convocazione avvenga in modalità cartacea a me è giunta una mail quella che giunge usualmente non mi è stata consegnata la documentazione come richiesto quindi nella convocazione nella documentazione legata primo aspetto secondo aspetto già quando ho ricevuto la mail venerdì pomeriggio adesso non ricordo l'ora ho mandato una richiesta scritta del segretario comunale chiedendo se vi fosse o meno il rispetto della tempistica prevista dal nostro regolamento per la convocazione delle commissioni a me sembra abbastanza evidente mi è stato confermato che questa tempistica articolo 19 comma 1 del nostro regolamento non c'è e quindi verrebbero anche meno diciamo volendo volendo anche utilizzare volendo anche utilizzare un'interpretazione analogica di non prevista al nostro regolamento di un'eventuale convocazione d'urgenza della commissione ritengo che ciò non sia possibile in quanto ne avevamo parlato lunedì sera se lei si ricorda la commissione capigruppo che c'era la necessità o l'opportunità di convocare la commissione prima di discutere del regolamento in questa sera in consiglio quindi e quindi l'amministrazione era consapevole quanto meno quanto meno da lunedì 9 giugno alle ore 17 30 18 abbiamo fatto la commissione capigruppo di questa necessità arrivare arrivare apertamente fuori termine a venerdì pomeriggio per convocare una commissione che si sa già si sapeva già da tanto tempo di dover fare e soprattutto non convocando alcuni dei componenti di questa commissione con le modalità da loro richieste quindi non inviando neanche la documentazione a supporto ritengo che sia uno spreggio del regolamento che questo consiglio comunale non può permettersi perché significa dare il là anzi continuare a dare il là a quello che è una pessima abitudine io l'avevo già evidenziato il 13 marzo del 2013 un caso tra virgolette quasi analogo quasi analogo francamente l'amministrazione si parlava ancora degli eventi atmosferici del febbraio dell'anno prima e di un altro argomento che veramente era privo dei requisiti dell'urgenza e l'allora segretario comunale dottor Gini mi rispose ma francamente sì il nostro regolamento prevede il termine tre giorni liberi di norma però possiamo applicare l'urgenza e quindi tirando per i capelli sentenziò che poteva essere ritenuta una convocazione l'urgenza francamente questa volta non c'è neanche quest'urgenza l'amministrazione lo sapeva ne era consapevole commissione capigruppo ci ha detto guardate che dovremmo passare forse è opportuno che passiamo forse è opportuno che non passiamo in commissione ci andiamo non ci andiamo insomma tanto avete fatto che da lunedì 9 siete arrivati a convocarci fuori termine allora se la volontà beh io adesso se il dottor Perosa mi consente leggo anche la risposta che mi ha dato che il riferimento alla sua richiesta è il parere di tutta evidenza che il termine ordinario di tre giorni per la convocazione della commissione prima non è stato pienamente rispettato dopodichè il dottor Perosa va avanti con le sue argomentazioni che se vuole se le dirà verbale però francamente io non voglio non voglio essere uso un termine brutto complice di un'amministrazione che in spregio ogni minima norma regolamentare continuamente e senza alcun rispetto di quello che è il ruolo delle minoranze continua a farsi beffe chiedo scuola beffe perché secondo me è farsi beffa del nostro regolamento comunale quindi o evitiamo o evitiamo di fare anche le commissioni in regolamento che sono altri soldi che vengono buttati perché tanto tanto il regolamento ci passate sopra come meglio credete perché dopo un caso come questo di evidenza eclatante stasera sa cosa succederà Presidente che metteremo i voti nella mozione d'ordine e facendovi forza con i vostri numeri ci vorrete a dire che è normale fregarsene di quello che dice questo regolamento perché tanto voi avrete dalla vostra l'arroganza dei numeri allora io formo una mozione d'ordine affinché ci sia il rispetto del regolamento e la commissione consigliare prima venga convocata per discutere di questo argomento nel rispetto del regolamento poi e qua voglio lanciare io un salvagente all'amministrazione che un salvagente l'ho anticipato anche prima se l'amministrazione invece ritiene che questo argomento possa essere deliberato senza passare dalla commissione prima lo faccia almeno si prenderà le critiche da parte nostra però farà un atto di coraggio che in ogni caso in ogni caso vi renderà onore perché io ritengo che un'amministrazione coraggiosa che si prende il coraggio di fare determinate scelte a fronte di un errore proprio perché l'errore l'avete commesso voi sia un'amministrazione che merita maggior rispetto piuttosto che un'amministrazione che prende il regolamento e lo straccia come quello che state facendo grazie ma consigliere intanto mi sembra che sia già stato un chiarimento del segretario poi chiedo se vuole se vuole se vuole esporlo al consiglio per quanto riguarda però le sue informazioni sul fatto che il regolamento viene stracciato e che la minoranza tutte le volte cioè è una critica nei miei confronti perché io sono qui a garanzia dell'applicazione del regolamento io non mi sento che il regolamento sia effettivamente utilizzato come carta straccia adesso forse non condivido quello che lei dice mi sembra anche che non sia avvenuto questo no no non sto parlando di questo caso specifico siccome lei dice che è da sempre così mi sembra una cosa no mi sembra che sia proprio così ho capito ma sono io che devo far rispettare il regolamento adesso non ne prendo come una questione personale però voglio dire magari facciamo no vabbè non facciamo una questione non ne facciamo una questione personale adesso chiedo al segretario se vuole leggere posso posso dar lettura io allora leggo leggo il chiarimento inviato dal segretario al consigliere Ribetti pregiatissimo avvocato Ribetti in riferimento alla sua richiesta di parere è di tutta evidenza che il termine ordinario di tre giorni per la convocazione della commissione prima non è stato pienamente rispettato entrando nel merito degli effetti giuridici di tale ritardo nella convocazione dalla lettura coordinata agli articoli 19,1 e 41,1 emerge che in entrambi i casi il regolamento utilizza l'erocuzione di norma tale da consentire di assumere che in alcuni casi motivati legittimamente si possa utilizzare un termine inferiore ai tre giorni per la convocazione della commissione dalla lettura dell'articolo 41 emerge inoltre che non tutti gli argomenti debbano essere tassativamente posti all'attenzione delle commissioni prima di essere portati all'attenzione del consiglio comunale comunque la valutazione è di prassi attribuita alla conferenza dei capigruppo la motivazione della eccezione alla norma va scritta da un lato ad un problema di comunicazione interna verso il presidente della commissione circostanza per la quale per quanto di mia competenza e per il ruolo che ricopro nell'amministrazione mi scuso e dall'altro dal sintetico argomento da affrontare l'argomento riguarda l'inserimento di un solo breve nuovo articolo al regolamento IUC pur su un aspetto delicato che riguarda l'invio del termine di pagamento della prima rata Tasi al 16 luglio in un contesto normativo incerto ritengo comunque che qualora a motivo del ristretto termine di convocazione della commissione la signoria vostra o qualche componente non possa partecipare ai lavori della commissione stessa e pertanto non possa pre-approfondire adeguatamente l'argomento in sede di consiglio potranno essere richieste e fornite tutte le informazioni affinché i consiglieri abbiano piena conoscenza dell'argomento ed i necessari approfondimenti giuridici al fine di poter esprimere le proprie valutazioni e un voto in piena consapevolezza in conclusione nel caso di specie istante l'attuale formulazione degli articoli 19 e 41 del regolamento il mancato rispetto formale del termine ordinatorio dei tre giorni liberi non pare comportare una non rispondenza al regolamento tale da comportare a garanzia della legittimità degli atti un invio della convocazione della commissione e conseguentemente dell'argomento dall'ordine del giorno del consiglio ovviamente è disponibile a confrontarmi sull'argomento a fronte delle sue eventuali ulteriori valutazioni cordialmente segretario generale primo perosa pertanto prendo atto che il segretario da questo chiarimento ritiene del tutto legittimo ciò che è avvenuto con una dilatazione dei tempi per quanto riguarda chiaramente le risposte consigliere ribetti da parte mia io adesso lei ha presentato una mozione d'ordine pertanto se lei sottiene questa mozione d'ordine me la metteremo poi ai voti il contenuto della mozione d'ordine è quello di non esaminare questa deliberazione questa sera perché c'è questa irregolata io però ho fatto anche questo ragionamento io sono anche a garanzia lei il documento comunque lo aveva da martedì pertanto il contenuto del documento comunque l'aveva perché l'ordine del giorno è stato trasmesso con i documenti martedì è vero che la convocazione non rispettava i tre giorni liberi è anche vero che però lei oggi mi sembra mi hanno riferito era presente in commissione non era in presente in commissione ma vabbè comunque voglio dire siccome è vero che c'è stata una mancanza è vero che il segretario spiega c'è stato un disguido diciamo che forse da che ricordo io forse forse la prima forse la seconda volta che non c'è questo però effettivamente il regolamento dice di norma e nell'interpretazione letterale di norma non vuol dire che deve necessariamente essere rispettato perché io credo che no credo che l'amministrazione possa anche in determinati casi non trasmettere in commissione le deliberazioni no non è che non va rispettato deve essere rispettato di norma nel senso che sopporto delle eccezioni però scusi sì però consigliere ribetti nel caso specifico lei non è che non fosse stato informato cioè lei non era conoscenza del documento e del contenuto perciò voglio dire qui io devo tutelare anche i consiglieri in modo tale che possano essere consapevoli ed essere sufficientemente informati su ciò che vanno a deliberare e discutere nel caso specifico mi sembra che questo problema non ci sia proprio diciamo che manca un giorno sui tre giorni liberi ne manca uno ha capito perciò questa è una mia è una mia considerazione il segretario però mi dice che dal punto di vista formale è tutto regolare lei vuole vuole comunque che mettiamo ai voti la mozione? prego voglio metterle ai voti voglio metterle ai voti affinché resti trazza come è successo l'altra volta di quello che ogni singolo consigliere ritiene sul rispetto del regolamento perché ripeto oggi da quella parte ci siete voi domani potrebbe esserci qualcun altro che potrebbe usare il vostro stesso criterio va bene allora chiedo chi vuole intervenire a favore contro la mozione d'ordine e chi a favore c'è qualcuno che vuole intervenire a favore prego consigliere Bianchini scusate avete cinque minuti grazie presidente caro consigliere Ribetti pulendo un po' il suo intervento cioè tirando via quella parola come pessima abitudine spregio farsi beffa complice tirando via questi termini che ovviamente sono nel suo linguaggio giusto per cominciare a fomentare qualcosa ripeto tirando via questo io capisco il suo intervento lo capisco però se il contenuto di questa delibera avesse carattere anche strettamente politico allora posso capirla perché nel rispetto delle delle minoranze quanto ha detto anche adesso il presidente del consiglio nel rispetto delle minoranze io questa cosa posso capirle posso capire che il termine di norma posso avere in un contenuto diciamo squisitamente o nella maggior parte politico posso capire che una delibera debba passare in commissione perché posso avere da parte delle minoranze tutte le delucidazioni possibili in questo caso si parla veramente di una cosa di una frase e doverosa per in questo momento e utile per tutti i cittadini anche quelli che hanno eletto lei in questo consiglio quindi detto questo capisco il suo intervento è purato da tutte le altre cose che lei ha detto ma sono convinto che voteremo assolutamente contro alla sua mozione solo perché in questo momento non tocca nessuna caratteristica politica questa delibera e perché è indispensabile per il comune grazie un intervento a favore della mozione d'ordine consigliere Piedicini prego sì sarà un intervento un po' anomalo anche però intendevo intervenire sulla questione del regolamento sì a favore diciamo ma il problema è questo sicuramente anche la risposta che dà il segretario che lei ha detto che non ravvisa nessun illecito o irregolarità dal punto di vista del regolamento che possiamo anche condividere porta sicuramente però a delle considerazioni che io faccio di carattere generale sul regolamento di questo consiglio e lo stesso motivo per cui stasera andremo a vedere delle emozioni che sono di due anni fa le vedremo nonostante che il regolamento ho delle interrogazioni che hanno superato abbondantemente i 30 giorni per avere una risposta e lo prevede sempre anche il regolamento perché dice che bisognerebbe dare risposta dentro i 30 giorni se no un'interrogazione non ha più senso neanche di essere presentata tanto è vero che si sono esaurite e tutti presentano emozioni che poi rimangono lì per anni allora la riflessione sul regolamento l'abbiamo fatta più volte il regolamento è la garanzia è la legittimazione della maggioranza non della minoranza il legittima la maggioranza perché il rispetto del regolamento il rispetto l'attenzione verso le minoranze è nient'altro che una forma per legittimare la maggioranza perché se la maggioranza non rispetta il regolamento e non rispetta le minoranze sicuramente si delegittima questo è il problema di fondo questo regolamento che è stato fatto qualche anno fa col concorso di tutti eccetera ha dimostrato negli anni di avere delle lacune queste lacune andrebbero sanate abbiamo chiesto più volte che la commissione regolamento si sieda finalmente e affronti un po' tutta data anche dall'esperienza delle varie situazioni l'abbiamo vista con la mozione sulle circoscrizioni come siamo andati avanti quando il proponente chiede di ritirarla e la maggioranza continua a portarla avanti e poi decide di votarla l'abbiamo visto con le decisioni prese dalla conferenza capigruppo che è una conferenza che serve per tutelare le minoranze perché se no sarebbe inutile neanche farla se la fa la maggioranza da sola e va bene lo stesso però abbiamo visto che qualche volta in aula sono state cambiate queste cose sicuramente c'era tutto il tempo per fare la commissione io addirittura avevo proposto se era possibile addirittura non farla quindi lo dico apertamente perché lo ritenevo per il tipo di delibera che noi avevamo questa sera uno spreco di denaro quindi addirittura io mi sono espresso in conferenza capigruppo e lo ribadisco per non fare la commissione andiamo in aula direttamente di cosa stiamo discutendo solo di un invio di una data non stiamo discutendo niente più però a prescindere da questo quindi io non ho cambiato idea rimango del fatto che si poteva tranquillamente anche non fare questa commissione arrivo però caro presidente del consiglio comunale perché lei è responsabile di questo non il sindaco e non l'amministrazione perché i lavori consigliari dipendono unicamente da lei e non dall'amministrazione perché la Bassanini ha diviso i compiti abbondantemente tra il consiglio e la giunta allora a questo punto la invito veramente a riunire non all'ultimo minuto con la mezz'oretta la commissione regolamento faccia una riunione della commissione regolamento e mette all'ordine del giorno della commissione regolamento revisione del nostro regolamento finalmente si aprano i lavori si facciano vuole che rinunciamo al gettone di presenza rinunciamo volentieri ma facciamolo perché tutti questi problemi che si vengono a portare avanti nascono dal fatto che il regolamento che è stato votato da questo consiglio negli anni ha dimostrato di avere delle pecche che non abbiamo voluto risolvere che invece potremmo e dovremmo risolvere ecco che allora questo mio intervento che ripeto pur contrario anche alla commissione che non serviva perché per questo tipo di delibera non serviva a fare una commissione non so quanto tempo siete stati in commissione 5 minuti ma che cosa vi siete raccontati non lo so però accolgo l'occasione di questo intervento a favore della mozione per ribadire a quello che ho già detto più volte rivediamo il nostro regolamento nei punti che non vanno quindi è un sollecito a lei personalmente sì ma lei non ha fatto un intervento a favore della mozione perché in definitiva ha detto che il regolamento consente quello che noi vogliamo fare stasera ho detto chiaramente lei non interlocisca comunque la commissione del regolamento che abbiamo fatto l'altra sera è entrata nel merito e dobbiamo modificare ci siamo il consigliere Giannelli può confermare ci siamo impegnati a modificare il regolamento su questo le credo comunque consideriamo l'intervento a favore della mozione bene allora mettiamo i voti la mozione d'ordine del consigliere Ibeti che chiede di non esaminare la proposta di deliberazione numero 24 2004 per le motivazioni già espresse dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuse le votazioni l'esito della votazione è seguente presenti 36 votanti 34 maggioranza 18 favorevoli 8 contrari 23 astenuti 3 la mozione d'ordine viene respinta passiamo allora ad esaminare la deliberazione do la parola all'assessore Mazzer prego grazie grazie presidente l'oggetto della delibera di stasera assessore scusi un secondo prego prego consigliere Danilo ero preso in là volevo semplicemente chiedere dove è andata a finire la mia interrogazione del 24 di aprile sul fine vita perché sono trascorsi in tempi lunghi avevo sentito l'assessore interrogazione a risposta scritta sì a risposta scritta avevo sentito l'assessore Romor che mi aveva dato quasi per certo una risposta in tempi non celeri molto di più perché dovevate fare una delle cose con Aviano Aviano ha già fatto deliberato e istituito il tutto l'iter e noi noi abbiamo già deliberato cioè la vecchia amministrazione ha già deliberato quindi bastava decidere se sì o no e come va bene chiedo la risposta scritta volevo ecco va bene non serve invito l'amministrazione a dare risposta all'interrogazione scritta e magari se vuole dare mandare copia anche a me grazie prego sessore mazza grazie presidente allora solo per illustrare la delibera significa semplicemente dire che aggiungiamo al regolamento una frase la frase è questa per l'anno 2014 la scadenza del pagamento della contotasi è fissata al 16 luglio la delibera precedente adottata il 10 marzo di quest'anno recitava per l'anno per tutti gli anni le scadenze sono il 16 di giugno prima rata 16 di dicembre seconda rata perché recitava scandiva queste due date perché il 16 di giugno e il 16 di dicembre sono le scadenze dell'Imu sulla seconda casa sugli altri fabbricati e essendo la base di calcolo la medesima perché si parla della rendita catastale delle abitazioni abbiamo pensato di unificare queste due date in maniera che riuscivamo ad agevolare l'utente il cittadino il contribuente perché se si recava il CAF al centro di assistenza fiscale si recava una volta sola per l'Imu e anche per la Tasi questa delibera quindi modifica il precedente regolamento con questa unica frase anche per quello forse l'approfondimento che è una vocazione delle commissioni era forse anche abbastanza inutile ma perché siamo arrivati a questa decisione siamo arrivati a decisione perché giovedì 5 ultimo scorso i CAF sono venuti da me che hanno chiesto una riunione e mi hanno detto i centri di assistenza fiscale sto parlando dei principali quelli che fanno riferimento CGL e CESLUIL mi hanno detto non abbiamo ancora in dotazione i programmi per fare il calcolo della Tasi i CAF ricevano questi programmi a livello nazionale noi abbiamo un regolamento Tasi estremamente semplice lineare a solo un'unica aliquota non 7-8 aliquote come stanno facendo un po' tutti i comuni e a solo un tipo di detrazione non tante detrazioni come hanno molti comuni che lo legano anche all'ISEE quindi una sorta di regolamento molto semplice tanto più che abbiamo anche pubblicato e cercato di informare con i nostri mezzi i cittadini del comune di Pordenone di come si pagava la Tasi abbiamo fatto anche un video fatto in casa proprio messo su Youtube oltre che sul nostro sito dove proprio si faceva capire come si recupera la rendita catastale dove si va a prendere la rendita catastale per cosa la si moltiplica e come si si arriva poi alla determinazione finale dell'importo Tasi da pagare tra l'altro questo video ha avuto i primi 5 giorni ha avuto 1700 adesso non lo so perché però i primi 5 giorni aveva già 1700 visite quindi è stato molto apprezzato tra l'altro avevamo anche un programmino che è proprio sullo stesso sito del comune di Pordenone con il quale semplicemente mettendo la rendita catastale e mettendo i nostri dati fiscali anagrafici di ogni contribuente si riusciva a stampare direttamente il modello per il pagamento della Tasi ovviamente non possiamo pretendere che tutti i cittadini siano in grado di farlo anche se abbiamo cercato di dire soprattutto i nipoti dei nonni provate ad aiutarli qualcuno si rivolge ai CAF e qualcuno ha bisogno di essere aiutato attraverso i centri di assistenza fiscale e noi non potevamo rimanere sordi a questa richiesta perché ovviamente avremmo creato molte difficoltà da parte del contribuente naturalmente l'informazione che viaggiava a livello di mass media soprattutto nazionali non faceva altro che deviare e distorcere un pochettino quelle che erano le indicazioni che noi volevamo dare perché da fine maggio in poi si continuava a parlare di una proroga che poi effettivamente riguardava soltanto i comuni che non avevano deliberato ma è chiaro che in provincia di Pordenone l'unico comune che aveva deliberato la tasi era il comune di Pordenone c'era un'altra delibera adottata dal comune di San Vito che determinava senza determinare l'aliquota tasi da pagare decideva di far pagare tutto in un'unica soluzione a dicembre io ho chiesto ai CAF di quanto tempo avete bisogno perché questo vostro servizio possa essere reso in maniera efficace ai cittadini loro mi hanno detto guardate stanno arrivando i programmi io penso che se diamo una proroga di un mese è una proroga che è sufficiente per fare chiarezza e per permetterci di dare un'assistenza completa e chiara nei confronti dei cittadini di Pordenone sapevamo in quel tempo dove discutevamo di questa cosa che già in commissione nelle commissioni parlamentari perché sapete che il decreto è un decreto legge del governo che poi va ratificato Senato e Camera e quindi già nelle commissioni stavano parlando di questa cosa del non siccome l'informazione era appunto non uniforme precisa già di intervenire sulle sulle sanzioni amministrative che sarebbero state che si sarebbero dovute emergere fare nei confronti dei ritardatari e anche lì appareva chiaro dall'informazione che avevamo che probabilmente il legislatore in sede di ratifica di questo decreto legge del governo avrebbero in qualche maniera posto qualche rimedio e io sono ancora fiducioso che il legislatore ponga questo rimedio d'altra parte questa proroga era stata chiesta da Lanci Lanci rendendosi conto che due terzi dei comuni non avevano ancora deliberato ha chiesto una proroga oltretutto oltre che chiedere la proroga ha fatto anche un'altra richiesta e la richiesta è chi non aveva deliberato e quindi non era in grado di far pagare entro il 16 ma di conseguenza non avrebbe avuto questo apporto nelle casse comunali di questa prima rata della Tasi beh chiedeva al governo uno sforzo in più quindi di trasferirgli un'anticipazione su questa mancata entrata nei comuni invece io dico tra virgolette virtuosi che avevano già deliberato non si diceva ancora nulla nel senso che i cittadini dovevano pagare per mettere in salvaguardia le casse dei comuni che appunto potevano avere un danno rispetto a questa mancata entrata ecco per Pordenone questo danno non ci sarebbe stato ve lo dico perché ne avevamo parlato già in sede di consuntivo e lì si è evidenziato come la cassa la competenza di cassa del comune di Pordenone non soffriva di questo problema di mancanza di fondi anzi è una cassa molto robusta proprio perché anche il patto di stabilità ci ha impedito in qualche maniera di liquidare tutti quelli che erano gli stati di avanzamento oppure i contributi che ci arrivavano e quindi di fatto andavano ad aumentare la cassa senza che ci fosse uno sborso una spesa conseguente proprio per i limiti del patto di stabilità quindi neanche questa motivazione andava cascava bene per il comune di Pordenone abbiamo anche cercato di capire se da venerdì scorso si potesse in qualche maniera convocare il consiglio d'urgenza magari per il lunedì successivo ma chiaramente saremmo in corsi in tutti quei problemi di non aver anticipato per tempo la convocazione allora cosa abbiamo fatto abbiamo semplicemente adottato una delibera di giunta perché bisognava dare un po' di chiarezza ai nostri concittadini la chiarezza l'abbiamo fatta diciamo adottando una delibera di giunta il 6 di giugno con la quale semplicemente si prorogava la scadenza di un mese dal 16 di giugno al 16 di luglio ringrazio il segretario che in qualche maniera è riuscito a costruire una legittimità dell'atto anche se eravamo su un crinale molto molto difficoltoso per quel che riguardava la competenza della giunta per assumere questo tipo di decisione visto che il regolamento era stato deciso qui in questo consiglio ma anche quantificando quale poteva essere l'eventuale ipotetico danno irradiale al quale fossimo andati incontro abbiamo ritenuto un atto corretto e giusto nei confronti della comunità adottare quella delibera di giunta proprio perché doveva arrivare almeno una settimana prima della scadenza che è proprio il 16 di giugno cioè oggi però in questa data ovviamente noi chiediamo al consiglio correttamente chiediamo di confermare questa decisione quindi di andare ad accettare questa proroga fare in maniera che i cittadini di Pordenone abbiano questo aiuto da parte dei centri di assistenza fiscale ancora per un mese per poter assolvere i loro doveri di contribuenti credo di aver detto tutto spero che tra l'altro il legislatore tra poco ci conforterà anche con una proroga rispetto a sanzioni amministrative che secondo me sono inutili in una situazione così difficile contorta di informazioni ringrazio ancora il segretario e la giunta mi scuso anche per la questione della commissione e chiedo cortesemente a questo consiglio di adottare questa decisione perché nel merito credo che sia una decisione che dobbiamo alla nostra comunità grazie assessore ci sono richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri nessuna richiesta bene non ci sono richiesti di chiarimenti bene pertanto dichiaro aperta la discussione non vedo nessuno iscritto consigliere dalmas prego ma io ho partecipato prima ai lavori di quella che Pedicini ha chiamato un'inutile commissione probabilmente era inutile nel senso che chi non è d'accordo sulla finalità di questa delibera molto semplicemente in questo cerco di norme che ci sono spostiamo in là di un mese il pagamento del tributo della anzi sì della tassa oggi scade il termine mi correga assessore se sbaglio per pagare l'imu spostiamo esatto di un mese fino al 30 luglio io credo che non sia questo il problema il problema vado sostanzialmente a mio unitamento in cui anche prima l'ho detto mi rendo conto che il legislatore nazionale mi rendo conto che l'Europa ci ha imposto di fare cassa e di pagare il debito pubblico e passatevi un manutentore perché è un po' fastidioso questo ci ha imposto praticamente di imporre ci ha imposto queste norme facendo facendo cassa si sieda per cortesia perché lei mi ecco facendo cassa con la casa questo è evidente no? e quindi questo sposta l'attenzione anche del contribuente del risparmiatore più che sulla casa sull'obitazione sulla proprietà magari su aspetti finanziari su titoli su altre questioni questo è un po' un mondo che sta prevalendo che qualcuno piace questa Europa questa costruita in questo modo evidentemente qualcuno ha molti hanno dei dubbi su questo ed è in dubbio che tutto il settore della casa abbia avuto una diremmo impennata spaventosa dal 2000 e sostanzialmente dai primi decreti monti quindi dal 2011 da 2011 in poi quindi costruito l'Imu dopo lì ci siamo stati a Limo e via dicendo poi legge stabilità 2013 dicembre 2013 introduce la Tasi che va a garantire la differenza di gettito dell'Imu prima casa che non c'era più benissimo devo dire che lei mi ha in commissione mi ha detto che io evidentemente sono stato distratto forse non avevo esatta contezza del consultivo l'ultima rata sull'Imu della prima casa nel 2012 credevo fosse inferiore rispetto alla previsione di entrata dell'Imu mentre voi mi informate 6 e 6 6 e 6 cioè sostanzialmente andate a pareggiare con la Tasi perché questo è lo scopo del Comune è il Comune di Pordone qui è stato Lanci Lanci ha piantato i piedi davanti al governo soprattutto davanti al governo Letta gli ha detto benissimo sull'Imu noi non ci stiamo quindi tu devi introdurmi un'altra tassa che è stata questa tassa sulla Tasi Lanci è una vostra un vostro braccio armato cioè tutta sinistra cioè ce l'avete in mano pienamente quindi voi siete tassatori nati di professione e avete scelto il risparmio degli italiani per tassare sulla casa ecco perché dove è quel consigliere comunale lì come si chiama quello che stava aggiustando prima il Bianchini Bianchini chiamate Bianchini perché se no non mi diverto allora al netto di questo che evidentemente è una stupida mia propaganda stupida mia propaganda è anche vero che avremmo potuto diminuire l'aliquota fino all'azzeramento della tasca giusto? è anche vero che voi avete scelto di applicare delle detrazioni per una fascia diciamo potenziale di contribuenti sulla prima casa di abitazione di 25 euro e di 25 euro per il conduttore per determinate tipologie determinate rendite catastali ritenendo che quel beneficio vada a coprire una massa insomma ragguardevole di interventi non credo che gli 800 euro di limite che voi avete messo per la rendita catastale coprano coprano tante case tanti fattispecie proprietari conduttori e questo ve lo chiederò esplicitamente con numeri a mano perché dovete sempre applicare la rivalutazione che fa Monti che ha di fatto che ha di fatto trasformato il catasto cioè le rendite catastali nella rivalutazione più 5 e più 160 quindi non so effettivamente che cosa sia compreso nelle detrazioni di dentro bene e chiudo quindi se fossimo stati particolarmente virtuosi non l'avremmo nemmeno applicata la tasse lei conferma e allora e allora mi dica perché un comune come il nostro arriva proprio ad applicare la tasse e qui insisto sempre sulla mia tesi fino a quando non mi stuferò di stare in questa questione comunale che può essere già domani mattina voi siete noi siamo un comune sufficientemente ricco lo siamo stati siamo stati un comune sufficientemente ricco perché il sistema delle autonomie in questa regione è stato è stato si garantiva sulla compartecipazione dell'entrante e non è vero che avete subito dei tagli drastici di trasferimento non paragonabili non paragonabili con il resto d'Italia non paragonabili con il resto lei me lo conferma questo allora nella confusione nel coacervo scusate nella molteplicità delle norme che sono state emanate da monti in poi sino ad oggi di queste tasi iucche e via dicendo dove effettivamente la ragione per la quale si può dire che Pordenone sia un'eccellenza su questo per il fatto che voi siete stati i primi ma quasi c'è uno zelo sospetto il 16 il 10 del 3 2014 quest'aula ha approvato il regolamento e abbiamo approvato anche il bilancio di previsione straordinariamente prima di tutti gli altri potevamo approvare solo il regolamento e il bilancio e il previsione andare un attimino più in là capire come andavano le cose ma avevamo bisogno di approvare il bilancio di previsione perché c'era una manifestazione di una certa rilevanza ecco e oggi spostiamo spostiamo un po' più in là il pagamento della Tasi e poi c'è un'ultima questione vede è stato sospetto allora la rapidità con cui avete applicato la IUC è stato sospetto la velocità con cui avete preteso di approvare il bilancio di previsione dovevate garantire circa un milione e mezzo per la questione degli alpini e va bene è stato un successo poi lei il sindaco durante la sfilata ci stava anche bene sarà forse grazie al no ci stava anche bene devo dire ha ben rappresentato vorrei che questo comune che ha tutte le i fondamentali i fondamentali per fare qualcosa di veramente interessante sotto profilo della fiscalità immobiliare lo avesse fatto perché avete fatto degli aggiustamenti ci sono stati dei tentativi io mi rendo conto che non è facile nemmeno per gli uffici stabilire queste cose però Cristo Dio dal 16 si può dire si si può dire non è ecco però vedete dal 16 dal 10 del 3 avevamo 4 mesi di tempo per fare una cosa molto semplice e questo lo dovrete fare il prossimo anno se rimane la tasi cioè inviare i bollettini di pagamento nelle case alle persone quindi che le ricevono a casa eventualmente potranno dire potranno contestare ma sicuramente potrebbero risparmiare qualche telefonata qualche consulenza qualche viaggio qualche altra cosa ecco che allora il problema del CAF non esiste voi avete gli strumenti per applicare so che sto suscitando l'irarità dell'assessore ma guardi ho finito ecco quindi sostanzialmente io l'ho anticipato quella che la mia interrogazione che non faccio più poi se lei avrà cortesia mi risponderà anche su questo perché il prossimo anno lo dovete fare mi chiedo perché in quattro mesi non avreste potuto farlo loro grazie grazie consigliere Dalmas non vedo nessun altro iscritto pertanto passiamo ai secondi interventi nessun iscritto dichiaro chiusa la discussione do la parola all'amministrazione prego due brevi risposte consigliere Dalmas lo avevamo proprio anche dichiarato in sede di bilancio la tasi era la prima volta che si applicava noi lo applicavamo per primi lo deliberavamo per primi rispetto a tutta la regione e anche proprio per scelta politica abbiamo proprio voluto far capire che la tasi è in sostanza l'ex imu sulla prima casa perché di fatto andava a sostituire quel trasferimento che lo Stato non ci garantiva più e lo volevamo dichiarare anche in tono anche quasi polemico cioè cosa facciamo con la tasi recuperiamo l'ex imu prima casa per dire le cose come stanno per non prendere in giro nessuno sì ma l'abbiamo ma proprio per questo abbiamo fatto una tassazione che fosse semplice perché doveva dare semplicemente quell'importo punto però non abbiamo ci siamo limitati a questo perché lo sforzo che abbiamo messo l'abbiamo messo in particolare vabbè sull'imu quando abbiamo fatto i comodati che valgono 300 350 mila euro 400 mila euro vediamo quanto varranno però lì abbiamo messo il nostro sforzo per ridurre le tasse in comune a Pordenone e lo dovevamo sulla TARES la TARES dell'anno prima è stata la tassa forse meno digerita dalla nostra comunità e lì dovevamo assolutamente fare qualcosa fare qualcosa per quei commercianti che avevano avuto questo gap enorme nella trasformazione da TARSU a TARES con aumenti troppo troppo alti e lì abbiamo messo i 250 mila euro di solidarietà oltre a questo abbiamo anche cercato di contenere lì i costi proprio andando una diminuzione anche per tutti gli altri contribuenti media 9 10% siamo arrivati non abbiamo toccato l'IRPEF una delle più basse che c'è in giro la seconda tra i capoluoghi d'Italia e poi ci siamo resi conto guardando proprio le tabelle di chi aveva deliberato la TASI dopo di noi che forse non eravamo proprio i più esosi ma forse eravamo i più virtuosi perché a parte Aosta che è all'uno tra i comuni capoluoghi tra quelli che avevano in precedenza deliberato non siamo andati in mani perché eravamo al secondo posto io credo che le tasse devono essere poche perché se sono tante fanno impazzire i contribuenti poche anche negli importi perché dobbiamo impegnarci a ridurle devono essere storiche quindi la nonna deve sapere che ogni anno c'è quella scadenza che si ripete perché si ricorda di pagare la tassa televisiva e così si ricorda di pagare meglio anche le tasse che sono storiche non quelle che si cambiano ogni anno impossibile e soprattutto devono essere trasparenti non devono avere tante alicote tante detrazioni è preferibile guardi è preferibile alimentare più il fondo per i servizi sociali diamo una mano a pagare la bolletta della luce diamo una mano a pagare anche la tassa delle immondizie tranquillamente piuttosto che fare una serie di detrazioni che poi non si sa nel merito se effettivamente come la media del pollo aiutano chi ha bisogno o magari aiutano un po' di più no no mi parli di 80 euro non sono miei 80 euro sono di un altro sono di un altro sono di un altro dai vabbè parliamo parliamo al comune di Pordenone meglio averli dati che non averli dati ho finito grazie prego scusate signor sindaco prego il consigliere dal mass riesce sempre a suscitare e a introdurre argomenti di reale discussione io mi permetto di coglierne due anzi tre il primo è l'anci io credo che abbiate letto le dichiarazioni che io come amministrazione abbiamo fatto non si può dire che in quest'ultimo periodo scusa uso un termine che è già stato utilizzato cioè chi si è sbattuto di più sia stato proprio enormemente tutelato dal lanci per cui voi sapete abbiamo scritto anche delle lettere formali alla presidenza del lanci indicando che qua bisogna che si metta d'accordo sono sono corretti quelli che si sforzano di fare determinate operazioni nei tempi quindi non è che ci freggiamo di aver fatto una cosa eroica abbiamo presentato un bilancio di provvisione che aveva è certo un'urgenza ma non solo quella perché alla fine è tutta la nostra amministrazione che si è giovata del fatto che ci fosse un bilancio definito pur con tutte le incertezze ma insomma fosse definito quindi quello del lanci diventa un tema effettivamente di discussione politica perché noi vogliamo l'avevamo già fatto aderendo ad una lettera dei comuni virtuosi l'anno scorso in situazioni diverse ma che alla fine come sostanza devono la stessa avevamo aderito dicendo che chi opera bene deve essere riconosciuto e gli si deve dar atto e non essere penalizzato poi nell'inseguimento di cose che vengono fatte in genere per agevelare un'enorme massa di gente che tanto bene alla fine andando ai fatti o per limiti reali o per scadenze eccetera non è riuscito a temperare anci secondo ho già detto il fatto di aver essere aver premuto sull'acceleratore per presentare il bilancio in fondo era un'istanza che era venuta fuori proprio dalle nostre discussioni in questo Consiglio Comunale l'anno scorso me lo ricordo bene eravamo atterrati intorno al 9 luglio se ricordo la data insomma presentare un bilancio di previsione in questo punto di previsione il 9 luglio non credo che ci fosse stato utile in nessun tipo di attività con una serie di grandi difficoltà di tipo pratico quindi l'abbiamo fatto insisto certo l'ho detto per la manifestazione ma anche memori di una lezione che vorremmo costantemente impiegare noi ci siamo dati una come si dice un programma insomma un crono programma per riuscire a portare voi sapete che cambierà la contabilità insomma ci saranno tanto per cambiare ulteriori turbative noi intendiamo entro la fine di quest'anno il bilancio del 2015 presentarlo da ultimo mi rifaccio alla lettera che è stata mandata dalla commissione a Renzi quando così ha commentato alcune cose dal punto di vista della commissione negative verso l'Italia parlo di un documento che è stato mandato credo non più di commissione europea non più di 15 giorni fa all'incirca non era un documento molto lungo e stranamente anche molto chiaro uno dei passaggi che viene fatto in questo documento riguarda l'equità fiscale applicata avendo come obiettivo la casa che cosa dice questo documento sottolinea la commissione che alla fine l'equità della nostra tassa sulla casa non è tale perché il motore che alla fine fornisce queste informazioni cioè il nostro catasto non è all'altezza dei tempi e non riesce a inseguire quella valorizzazione degli immobili che negli altri stati europei normalmente ha una cadenza molto più elevata che nel nostro caso ecco io voglio sottolinearlo qui proprio in questo consiglio perché credo che questo fosse già stato un passaggio durante le nostre discussioni l'anno scorso il problema del catasto non è un problema meramente tecnico è un problema reale di questo paese e io davvero spero vedendo le raccomandazioni ogni tanto una raccomandazione si può anche accettare in senso buono io una delle cose che cercheremo di monitorare nel nostro piccolo come a livello regionale la parte del catasto possa essere migliorata ma sicuramente io mi auguro che risulti una delle priorità a livello nazionale per questo noi cercheremo di portare avanti le nostre sollecitazioni perché il fatto di non avere la parte diciamo centrale che fornisce le informazioni per questo tipo di tassazioni sugli immobili adeguata alle esigenze del paese è una delle criticità che secondo me in questo momento deve essere affrontata con grande determinazione e con perché no trovando anche le giuste risorse perché abbiamo capito che non si fa gratis ma se lo rimandiamo sempre ritorneremo in questa specie di spirale che ci vede anche non equi nel modo in cui la nostra i nostri tributi vengono disegnati ed applicati ci faremo ve lo garantisco parte particolarmente attiva perché queste cose nel nostro piccolo a livello regionale e attraverso i nostri rappresentanti vengano anche illustrate e fatte presenti a Roma grazie signor sindaco passiamo ora alle dichiarazioni di voto consiglia cardini prego grazie presidente io non sono intervenuta in questa delibera e a dire la verità mi sono astenuta prima del voto ho tolto la tessera perché francamente non avevo non avevo proprio voglia di votare la mozione d'ordine proposta dal consigliere Ribetti perché da un lato io voglio che questa delibera passi la condivido profondamente e quindi ho il desiderio che passi però francamente la mozione d'ordine del consigliere Ribetti era assolutamente condivisibile non c'era nessun motivo per il quale questa commissione non potesse essere convocata nei termini andava convocata nei termini oppure non convocata affatto il mio gruppo ritiene quindi di anticipare il voto favorevole a questa mozione però davvero io ci tengo a mettere che venga messo a verbale che su quelle che sono le spiegazioni che ha dato l'amministrazione noi non ci siamo cascati nemmeno per un momento io credo che il presidente che oltretutto è un avvocato non possa pensare di dire in fin dei conti un giorno anziché due anziché tre non fa differenza cioè presidente noi facciamo un lavoro secondo il quale depositare un atto anche un'ora oltre la scadenza ha un suo rilievo la commissione effettivamente andava convocata tre giorni prima non è stata convocata nei termini io sono molto felice che in zona cesarini siamo riusciti a riparare a quello che probabilmente è stato un disguido io non parlo di un errore di un disguido ma va benissimo può capitare siamo esseri umani il disguido può starci ed è le dico io sono contenta in zona cesarini abbiamo salvato tutto siamo riusciti a fare la commissione a mio parere io ho partecipato alla commissione e per quello che è stato nelle mie possibilità ho partecipato per dare il numero legale ritenevo che la commissione andasse fatta però per cortesia non ci dite che non arrampicatevi sugli specchi perché in questi casi quando c'è un disguido o si segue una strada e si dice la commissione non andava fatta e quindi la delibera non necessitava di commissione oppure si dice la commissione andava fatta non abbiamo rispettato i termini può capitare auspichiamo che da parte delle opposizioni ci sia un intervento di un certo tipo siamo tutti questa non è una delibera di carattere politico questa è una delibera che va effettivamente a vantaggio dei cittadini nessuno di noi si sogna di non votare una delibera che va a vantaggio dei cittadini però desideriamo non essere presi in giro io non voto una mozione d'ordine come quella del consigliere Ribetti perché ha ragione ha ragione dopodiché non la voto perché effettivamente io desidero che questa delibera passi però da parte dell'amministrazione ci deve essere anche una presa di coscienza che qualche volta un disguido può capitare e che se si riesce a rimediare siamo tutti ben contenti io sono intervenuta unicamente per questo e per annunciare comunque il nostro voto favorevole assolutamente convinto a questa mozione consigliere Cardini scusi ma devo replicare intanto io sono un avvocato non ho detto che un giorno due tre sia la stessa cosa non ho detto questo se lei mi avesse se lei mi avesse ascoltato avrebbe capito che io no 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 io avevo fatto no scusate ho fatto delle premesse prima ho detto che nel caso specifico stiamo esaminando un caso specifico io poi sono dell'opinione che quando la locuzione di norma vuol dire che l'amministrazione potrebbe anche non far transitare le delibere in commissione questo dice il regolamento se no il regolamento dovrebbe dire che deve essere presentata salvo eccezioni invece dice di norma di norma pertanto non è è ordinatorio questa è la mia opinione che io ho sempre ma a parte questo nel caso specifico io ho fatto un ragionamento di questo tipo ho detto se la commissione fosse stata convocata con due giorni liberi con consegna anche da documentazione avrei detto che il consigliere non era stato informato adeguatamente qui invece la documentazione il consigliere Ribetti l'aveva ricevuta cinque giorni prima il martedì pertanto quantomeno dal punto di vista dell'informazione sul contenuto del documento c'era stata poi i giorni liberi non erano tre ma erano due comunque lui ha partecipato alla commissione allora io devo dire che tutto sommato il ruolo che devo svolgere di garanzia nei confronti dei consigli forse è comunque stato rispettato però voglio dire questo non c'entra con la legittimità della delibera che il segretario è stato chiaro è legittima questa delibera questo chiarimenti ma penso a questo punto ognuno rimarrà delle sue idee prego consigliere Tomasello grazie presidente signor sindaco penso che la delibera di oggi debba essere approvata all'unanimità da questo consiglio anche perché la proroga contenuta è stata fatta come ha detto anche prima la collega Cardin è una proroga fatta a tutela dei cittadini e quindi che si sono anche trovati in questo mese nell'ultimo periodo anche in difficoltà nella compilazione certamente tutto ciò non è adebitabile all'amministrazione condivido anche l'interpretazione che ha dato lei presidente relativamente alla locuzione di norma che è chiaro che ragionando anche in diritto la locuzione di norma rende il termine da natura ordinatoria quindi certamente non perentoria e quindi secondo me l'interpretazione che ha fatto anche il segretario è un'interpretazione più che corretta una cosa volevo dire che è emerso e che ne ha neanche l'ho anche detto l'assessore l'ho anche riferito l'assessore l'ha ricordato nuovamente l'assessore Mazzer è che la Tasi non graverà poi così tanto per i cittadini bordenonesi questo è un tributo che il Comune è stato costretto appunto come ci ha spiegato anche la Commissione ad applicare visto il mancato trasferimento dell'IC prima casa dell'IC prima casa pari a 6,6 milioni di euro noi non abbiamo applicato al cittadino un euro in più né un euro in meno abbiamo garantito questo mancato trasferimento abbiamo visto che lei ha fatto anche un esempio prima in Commissione nella tabella appunto che ne aveva citato che era stata legata alla delibera precedente che con la detrazione di 25 euro su una rendita catastale il peso della Tasi di 132 euro che è assai inferiore di molto anche dell'Imo prima casa quindi una Tasi che non peserà peserà molto meno dell'Imu è un comune che per quanto riguarda il peso fiscale è stato virtuoso nel senso che ha mantenuto la stessa liquota per quanto riguarda anche l'Imu seconda casa quindi non abbiamo come ha ricordato prima anche l'assessore non abbiamo toccato neanche l'addizionale IRPEF quindi abbiamo fatto un bilancio un bilancio ottimo direi un bilancio che non grava sui nostri cittadini quindi noi come gruppo del partito democratico daremo un voto sicuramente il nostro voto sarà il voto favorevole alla delibera grazie grazie consigliere Tomasello consigliere Piccin prego grazie presidente saltando un po' il ragionamento su come si è arrivati a questa delibera e le questioni sollevate giustamente sollevate dal punto di vista delle procedure dico solo una cosa bisogna che lo cambiamo il regolamento perché abbiamo sbagliato l'altra volta a farlo perché di norma non vuol dire niente oppure ha come dire si interpreta e si tira come l'elastico e di conseguenza e di conseguenza se i termini devono essere perentori saranno perentori se non saranno perentori non saranno perentori ma il di norma proprio non ci sta chiusa questa partita e per venire alla deliberazione dico che anche da parte nostra ci sarà un voto favorevole alla delibera e non venga scambiato naturalmente con la dichiarazione di voto di chi mi ha preceduto perché vede collega presidente Tomasello io capisco quello che lei fa dalla parte della maggioranza giustamente però mi chiedo anche se lei di tanto in tanto passando per strada ci parla con i cittadini guardi che anche se noi se questo comune è stato tra i più bravi ad applicare una tariffa più bassa le condizioni tali che ci sono fuori da qua fanno sì che i cittadini non siano tanto contenti e se lei e l'amministrazione e tutti quanti e tutti quanti come dire se tutti quanti noi o voi di la maggioranza avete fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista siamo tutti contenti e tutti i cittadini lo saranno non lo sono sicuramente per una gestione magari che ci ha portato ad arrivare ad arrivare ad oggi sulla questione dell'approvazione del bilancio e sul fatto che oggi ci troviamo ad approvare questo testo normativo questo slitta spiace constatare che ancora una volta chi prima fa non sempre meglio fa nel senso che non è una nota di demerito per l'amministrazione però come dire anticipare i tempi e ripercorro un po' il ragionamento che ho fatto in sede di approvazione di bilancio ma non perché qua qualcuno è più saggio la verità in tasco e così via succede e prima lo accennava l'assessore anche in commissione che magari chi arriva un po' più tardi non solo ha più tempo per pagare perché noi facciamo la proroga fino a luglio ma c'è qualcuno che mi pare che se non ha fatto regolamento la paga ad ottobre no assessore allora in una come dire saggezza tutta popolare che ci hanno insegnato i nostri nonni quando dicevano per pagare per morire c'è sempre tempo forse anche questa volta se noi fossimo stati un po' meno ligi avremmo dato un po' più di respiro ai nostri ai nostri cittadini nonostante questo pur prendendo le distanze da quello che è stato per la quale noi abbiamo votato contro il regolamento nella in occasione della sua approvazione comprendiamo che questo è un atto necessario è un atto giusto perché non solo perché lo hanno richiesto i CAF sicuramente perché l'hanno richiesto loro ma perché dà comunque più spazio ai cittadini e la maggiore possibilità di prendere coscienza di ciò che dovranno fare voteremo favorevolmente grazie grazie consigliere Picini consigliere Pedicini prego sì grazie condivido visto che tutti sono intervenuti anche sulla questione riprendiamo un attimo la commissione vorrei dire che aveva ragione la consigliera Cardin quando diceva caro presidente da quello che lei ha detto allora era meglio non fare la commissione piuttosto che farla male poteva visto che era di norma si poteva non fare piuttosto che fare quel pastroccio era meglio non farla no dipende proprio da lei sì anche no no i lavori del consiglio dipendono sempre da lei la commissione la propone e l'aggiunta poi viene sempre non è che se la convoca il presidente della commissione sono i lavori guardi l'ordine dei lavori i lavori in consiglio dipendono da lei dipende dal consiglio ma anche la commissione è un organo del ma guardi abbia pazienza la commissione è un organo del consiglio serve per far lavorare il consiglio non l'aggiunta e non le delibere abbia pazienza e quindi dipendono da lei come non dipendono da lei su bondi no guardi mi meraviglio no è così è così si lega la Bassanini e vedrà non c'entra niente l'aggiunta su questo sono le commissioni servono per far lavorare meglio il consiglio ma cosa c'entra certo ma certo ma lei a tutela dei lavori del consiglio chiama il presidente e decide intanto lei decide se mettere all'ordine del giorno o meno gli argomenti abbia pazienza ma detto tutto questo che non serve a niente ho capito che non serve a niente neanche dirlo consigliera Cardin detto o non detto non cambia niente lasci stare non importa il problema di fondo a mio avviso ovviamente la delibera come lo dicevo già alla conferenza che è più gruppo la delibera di questa sera è una delibera che va nell'interesse dei nostri concittadini è una delibera che va votata è un rinvio della data di scadenza io l'avrei rinviata al MAI ma questo non è possibile il problema che mi pongo ed è stato così un po' anche toccato dal dallo scambio di battute che avete fatto tra stavo dicendo un nuovo consigliere tra l'assessore prima dell'intervento del consigliere Dalmas mi faceva pensare e lo vorrei rendervi così partecipi di questo pensiero che noi ci rabbattiamo per chiedere questi soldi ai cittadini per tornare a quel equilibrio diciamo di entrate che ci venivano dall'Imu il problema è che non ci poniamo no non ci poniamo mai il problema noi continuiamo quando ci mancano questi soldi li chiediamo ai cittadini ma per cosa li chiediamo a questi cittadini chiediamo questi soldi ai cittadini per fare cosa per fare quello che facevamo prima torniamo sempre al vecchio discorso perché noi abbiamo bisogno sempre delle stesse entrate per fare sempre le stesse cose e non ci rendiamo conto che il mondo continua a cambiare che no non è così ma è così no cambia poco qui cambia il problema è che bisognerebbe veramente cambiare sostanzialmente signor sindaco il problema è che dovremmo cambiare veramente il nostro modo di pensare questo bilancio che viene presentato lei ha ragione l'abbiamo sollecitata noi perché ha ragione un bilancio che si fa a luglio non ha senso di esistere dopo sette mesi di gestione facciamo il bilancio di cosa stiamo facendo e tanto è vero che l'esempio è stato che poi abbiamo avuto tutta una serie di difficoltà il bilancio dovrebbe essere già pronto il primo di gennaio dovremmo già partire l'anno nuovo col bilancio tutti i settori devono sapere quanti soldi hanno cosa devono fare come li devono spendere non aspettare sei mesi per decidere come spendere dove averli e come spendere i soldi è ovvio il bilancio dovrebbe essere pronto il primo gennaio mi fa piacere che questa sollecitazione lei l'abbia colta e ci stia adoperando per questo ma il problema che mi domando noi facciamo un rinvio ma i cittadini oggi io sono andato a pagarmi l'Imu gli altri si vanno a pagare tutte le varie tasse siamo degli ottimi cittadini che paghiamo ma tutte queste nostre tasse servono per mantenere sempre lo stesso apparato servono sempre per mantenere la stessa situazione servono perché tutto continui come prima ecco questo non funziona questo non va bene perché i cittadini finché possono pagano anche le loro tasse ma il problema è che noi dobbiamo fare uno sforzo per cambiare dobbiamo fare uno sforzo perché questi soldi che i cittadini ci danno non vadano ad essere spesi per questa macchina dove le spese obbligatorie sembrano di più delle spese facoltative dove quando fate il bilancio tutti i vari settori arrivano e vi dicono che queste sono spese consolidate queste non si possono toccare qui non si può toccare qui non si può toccare e diceva scusa ma allora il margine che ha il sindaco l'assessore al bilancio dove sta? ah dice quello che rimane lì che è molto poco non possiamo fare niente concludo il consigliere vado a concludere non va bene assessore il problema è che bisogna rovesciare completamente la situazione dobbiamo pensare che il bilancio quando andrete tornare a farlo questi soldi dei cittadini vanno spesi nell'interesse dei cittadini e dobbiamo creare delle situazioni nuove all'interno di questa città di questo nostro territorio perché questi soldi diventano virtuosi l'abbiamo già detto e producono un nuovo reddito tornino ai cittadini con gli interessi perché gli forniamo quei servizi e quelle opportunità che danno a loro e ai loro figli la possibilità di poter crescere questo dobbiamo fare se non facciamo questo con questi soldi concludo il consigliere diventano veramente una spesa inutile il voto in ogni modo del gruppo di Nuova Pordenone è favorevole alla delibera grazie consigliere consigliere Dalmas allora voteremo a favore no? Gianelli mi conferma che votiamo a favore votiamo a favore però una cosa signor sindaco lei ha deviato abilmente il suo intervento sulla questione della riforma del catastro che è una riforma che si sta discutendo a riguardo nazionale già Prodi si pose il problema del passaggio del catastro dallo Stato direttamente ai comuni però il problema è che c'è stato letta scusi c'è stato Monti in questo paese e l'effetto Monti è stato catastrofico questo lo dobbiamo dire perché l'abbiamo sostenuto tutti in un certo momento convinti che scelta civica oggi sciolta civica forse forse la offrisse a questo paese una possibilità di riscatto chi non ci aveva creduto il grande professore della Bocconi no? chi non ci aveva creduto in realtà lui ha fatto un'operazione ecco perché ha ragione a Pedicini prima e anche qui sono in difficoltà a guardargli sempre a ragione a Pedicini dico ha ragione a Pedicini prima perché effettivamente i dati in Italia del passaggio dall'Imu anzi dall'ICI dico in Italia ma è la stessa cosa qui non sono gli stessi soldi sono aumentati questi soldi in modo spropositato perché ci sono stati e glielo spiegavamo allora all'assessore mio l'aumento dei coefficienti catastali aumentati del 60% a tavolino quello che era prima 5 poi è diventato 7,5 quindi le entrate sono aumentate e sono sono aumentate per effetto della tassazione conseguente ai coefficienti catastali dove avete risparmiato? dove avete risparmiato? leggendo il bilancio di previsione mi ricordo qualcosa sul personale ma c'era già il pescetto Brunetta tu non sei di altre cose questo è il tema allora ritorno alla domanda di prima primo voi il prossimo anno il bollettino Tasi se rimane a Tasi dovete mandarlo a casa del cittadino contribuente e non mi dica che aspettate la riforma del catastro per farlo e no no perché allora non c'è la riforma del catastro quindi noi non abbiamo i dati per poterlo fare li avete o no gli elementi le conoscenze per farlo io credo di sì perché l'Imu vi ha fornito quando c'era nel 2012 tutta una serie di indicazioni Tasi e l'Imu sono due tasse a natura squisitamente patrimoniale anche se la Tasi va a remunerare un servizio indivisibile ma un servizio quindi non dovrebbe avere natura patrimoniale di per sé però il coefficiente è sempre il presupposto positivo è sempre quello della Tasi cioè dell'Imu bene quindi il voto di Forza Italia sarà favorevole alla mozione le questioni che le ho posto prima sarò costretto a formalizzarle in una interrogazione giusto per un ripasso per un ripasso anche per magari quando mi risponderà da qui a sei mesi avremo i primi dati sul pagamento dell'Imu sul pagamento della Tasi sull'applicazione sulle detrazioni quindi potrà essere ovviamente più preciso preciso su questo rimane un rammarico perché io sono convinto che questo comune avesse la possibilità l'intelligenza le capacità e le professionalità per tentare qualcosa di più forte una scelta più marcata il Pordenone si paga a Tasi ipotesi 6,6 milioni riduciamo la liquida il più possibile aumentiamo le detrazioni ci inventiamo qualcosa non l'abbiamo fatto abbiamo fatto dei buoni calcoletti ragioneristici per far quadrare un bilancio a fronte di entrate che nel corso degli anni sono aumentate sono andate crescendo e anche a livello dei trasferimenti così si è verificato d'eccezione di quelli dello Stato che sono mancati quindi il problema è che da qualche parte bisognerà cominciare a risparmiare ma seriamente in modo strutturale fino adesso non abbiamo visto nulla di significativo da questo punto di vista grazie consigliere Dalmas consigliere Freschi grazie presidente anche da parte nostra ci sarà il voto convintamente positivo alla deliberazione che ha presentato l'assessore Mazzer e mi permetto di aggiungere una cosa che nel dare questo voto ci sentiamo anche un po' come si può dire rammaricati da quello che è il quadro generale cioè chi si comporta correttamente chi segue i giusti percorsi è costretto poi in qualche modo ad intervenire per fare in modo che il cittadino non venga penalizzato ecco questo secondo me è l'aspetto che più mi ha colpito di questa vicenda perché correttamente come diceva l'assessore prima siamo stati costretti ad intervenire dopo aver interpellato i CAF i CAF sono i luoghi in cui il cittadino normale il cittadino medio si reca per la dichiarazione dei propri redditi e pertanto per chiedere un aiuto alla compilazione del 730 da un lato dell'IMU dall'altro e via dicendo ecco io stesso mi sono trovato alla fine di maggio a dover affrontare la questione e la risposta che ho la domanda che ho posto al CAF riguardo alla Tasi non ha ottenuto risposta in quanto mi hanno detto che non erano in grado di poter calcolare l'importo da pagare allora io penso che di fronte a una situazione nella quale il cittadino si trova a dover pagare delle tasse che sicuramente non è convinto e non è contento di pagare perché vanno a colpire soprattutto quello che è sempre stato considerato il bene principale cioè la casa perché giustamente come diceva qualche consigliere prima la Tasi è un servizio per cui non dovrebbe partire da un ragionamento patrimoniale ma dovrebbe partire proprio da un ragionamento di servizio io penso che lo Stato le istituzioni dovrebbero mettere il cittadino nella condizione di affrontare un dovere senza dubbio ma affrontarlo in maniera semplificata in maniera come si può dire di facile di facile accesso ecco e questo è il punto sul quale mi sento di fare una sottolineatura e chiedo che sia anche il Comune come istituzione nelle sedi appropriate a dover far presente questo fatto cioè il cittadino non deve rincorrere le situazioni ma deve in qualche modo essere favorito aiutato nell'assolvere un proprio compito per cui ci auguriamo che le prossime scadenze abbiano in qualche modo il sostegno e abbiano dal punto di vista tecnico la soluzione pratica cioè quello di vedersi recapitare a casa ciò che il cittadino deve pagare dico non a casa per via postale ma per via telematica con gli strumenti che sono più moderni e più rapidi ma che debba in qualche modo sentirsi tra virgolette agevolato nell'adempiere il proprio compito questo è un fatto che ci lascia un po' un po' così ci fa un po' pensare cioè in questo paese chi si comporta in maniera corretta non solo viene riconosciuto uno slittamento nel pagamento come avrebbe dovuto essere stato fatto in maniera automatica ma deve rincorrere ad una deliberazione consigliare per poter fare in modo che il cittadino possa mettersi nella condizione di assolvere un suo compito non ci possono essere figli e figliastri non può essere che qualche comune non ha deliberato e con questo la scadenza è posticipata ad ottobre mentre qualcun altro che ha deliberato in maniera corretta deve sentirsi costretto a pagare entro i termini stabiliti anche quando non ci sono da parte degli enti preposti le possibilità di assolvere a tale compito ecco è questa la considerazione che mi sento di fare è la considerazione che va incontro a in qualche modo al cittadino e mi auguro e spero che possano essere introdotti sistemi e tecniche che in qualche modo assolvano a questo compito senza far incorrere il cittadino in inutili rincorse ed inutili problemi ed inutili ansie grazie grazie consigliere consigliere ribetti prego grazie grazie presidente e volevo chiudere un secondo la parentesi ringraziando la collega Francesca Cardin perché credo che abbia centrato quello che era il significato della mia mozione d'ordine tanto è vero che l'avevo chiusa la mozione d'ordine se l'assessore se lo ricorderà sicuramente lanciando io stesso quello che avevo definito un salvagente l'amministrazione per far capire che non era certo intenzione mia di non andare a buttare questa sera questo slittamento per una volta che fate qualcosa fuori ai cittadini ben venga che si vada a votarlo questo sicuramente però per farvi capire che non è possibile non è possibile continuare a pensare di poter fare quello che si vuole questo non è giusto non sta nella regola della democrazia è giusto dialogare l'ho sempre detto più volte anche nei discorsi sul bilancio ci siamo premurati tante volte di lasciare delle piccoli segnali che sono delle idee nostre a cui si poteva rispondere in mille modi almeno facendo almeno facendo vedere di averle prese in considerazione per poi declinarle oppure come avete fatto voi sempre quella che chiamo arroganza di dire comandiamo noi amministriamo noi facciamo quello che vogliamo ecco su certi aspetti almeno quando sono dei regolamenti che devono disciplinare la vita democratica io ritengo che l'amministrazione non debba sempre farsi forte dei numeri e dovrebbe venire incontro bastava bastava quello che aveva ricordato la Francesca la consigliera Cardini dire abbiamo sbagliato lavoriamo per il bene accettare mettiamolo a posto non voler difendere qualcosa che è indifendibile ecco era questo il segnale ed è stato colto e me ne compiaccio venendo all'aspetto l'ho già anticipato una volta che ve l'avevamo detto allora quando abbiamo votato questi regolamenti si poteva fare di più e si doveva fare di più e meglio non siete stati capaci ve l'ha ricordato anche prima il consigliere Dalmas almeno adesso avete messo una piccola pezza di un mese benvenga è meglio per pagare e morire come diceva il nonno della PC c'è sempre tempo quindi benvenga un mese magari cambieranno ancora le cose però il segnale che è arrivato questa sera a mio modo di vedere non è stato un bel segnale ripeto tornando all'aspetto del regolamento per il resto anche il nostro voto il mio voto sarà un voto favorevole grazie consigliere nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiusa le dichiarazioni di voto è comune che darà via la procedura di votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 24 2014 modifica regolamento IUC dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto presenti 38 votanti 38 maggioranza 21 favorevoli 38 contrari nessuno astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 38 votanti 38 maggioranza 21 favorevoli 38 contrari nessuno astenuti nessuno la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene passiamo ora alle mozioni mozione numero 26 2012 per il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento dell'amministrazione agli aspiranti candidati per un posto nel consiglio di amministrazione alla società di Pordenone fiera spa proponenti consigliere ribetti e dal mass chi illustra la mozione prego consigliere ribetti grazie grazie presidente finalmente finalmente riusciamo a discutere questa mozione che è datata 15 maggio 2012 quindi e di norma di norma mi piacerebbe ricordare che di norma dovrebbero essere discusse un po' prima le mozioni perché se aspettiamo ancora un po' qua si andrà a cambiare il nuovo consiglio di amministrazione della fiera prima di riuscire a discutere di questo beh francamente devo adesso ho fatto anche questa battuta iniziale per riportarla un attimo alla mente in alcuni dei passaggi che avevo che avevo evidenziato quando ho scritto la mozione non che mi sia dimenticato mi siano spaliti in mia mente quei fatti perché ritengo che siano dei fatti molto gravi quelli che sono successi ma perché mi ricordo che allora ero andato veramente a rivedere passo passo soprattutto quello che era il regolamento e che era stata anche forse un po' la campagna stampa chiamiamola così del sindaco che più volte sui giornali era uscito chiedendo sollecitando i nostri concittadini ma non solo i nostri concittadini a presentare dei curricula dire presentateli perché mi sembra ricordare avesse anche detto sono un po' pochi per domandare il curriculum valuteremo eccetera e avevo letto quelle dichiarazioni alla luce proprio di quel regolamento che mi sembra ricordare nel febbraio di quell'anno il sindaco appena insediato ci fece votare quel regolamento che doveva essere diciamo la panacea di tutti i mali o quasi quella spada con cui si presentava di fronte alla città sbandierando a destra e a sinistra di essere di essere nuovo di essere l'uomo che arriva dall'azienda di essere di essere colui che non si presta a giochi politici di essere colui che va a cercare la meritocrazia ricordo alcuni alcuni passaggi alcuni passaggi di quel regolamento che mi avevano colpito erano quelli che richiedevano e sbandieravano come l'amministrazione avesse ricercato a parte la meritocrazia a parte dei titoli di studio a parte delle esperienze a parte un insieme di questioni però avrebbe avrebbe fatto diciamo non si sarebbe prestata giochi di poltrone quasi un ricettacolo di trombati o di alleanze politiche in campagna elettorale ha detto no guardate io sono una persona nuova questo non ci interessa via tutto quello che è stato prima mi ricordo che si parlava di appunto di richiedere comprovate doti di preparazione esperienza a garanzia di obiettività competenze professionali e moralità pubblica oppure un altro coma dell'articolo 1 di quel regolamento che parlava nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del comune presso enti aziende società istituzioni devono essere osservati di norma vedete il vizieto sindaco c'era un altro vizieto sul di norma i principi della non cumulabilità degli incarichi in enti aziende società istituzioni della promozione del ricambio generazionale e della garanzia di pari opportunità di genere allora a sto punto leggendo leggendo quello che lei ce l'ha fatto scherzo in regolamento col di norma io capisco che questo di norma se lo vogliamo interpretare come avete interpretato stasera il vostro rispetto del regolamento significa che va tutto bene significa che la sua idea sindaco di ricambio di genere di genere ma anche ricambio generazionale è quello di confermare le due stesse persone che avevano rappresentato già l'amministrazione nei mandati precedenti ma su questo passi perché se lei mi viene a fare un ragionamento di comprovate doti di esperienza per carità nessuno vuole mettere in dubbio l'esperienza che potevano avere i rappresentanti però viva Dio il ricambio generazionale magari richiede che uno valuti se c'è qualcun altro in grado non dico di avvicinarsi a tali lumi però che almeno sia degno di avere forse un'opportunità perché ricambio generazionale e non cumulabilità forse degli incarichi forse può voler dire anche quello può voler dire ringraziare delle persone che magari hanno dato e dire a qualcun altro che magari è in possesso di requisiti altrettanto validi dire guarda adesso è anche il tuo turno facci vedere se sei più bravo magari stimolarlo in tal senso questo credo che doveva essere lo spirito o almeno io così avevo interpretato lo spirito del suo regolamento e ci avevo anche creduto perché sinceramente l'avevo presa come l'uomo nuovo che arriva dall'azienda si presenta eravamo all'inizio ci crediamo ci credevo quando leggevo sui giornali i suoi strali le sue grida qua mancano curriculum mandateli sono arrivati 48 54 non mi ricordo vado a memoria io mi ricordo che mi sono letti tutti francamente c'era un curriculum di molte specie qualcuno aveva dei requisiti magari più limitati ma qualcun altro era anche importante ricordo che c'erano curriculum pesanti in quella scelta e allora francamente sono rimasto basito sorpreso esterefato usire il termine che vuole anche schifato lo dico anche schifato quando poi sono andato a leggermi la delibera di quell'assemblea perché questo è parlando di un SPA quindi c'è un'assemblea dove il comune ha un certo peso dove il comune può indicare e francamente leggere che in un momento in cui si fanno i conti al centesimo in un momento in cui perché erano già iniziati i periodi di vacche magre il presidente della provincia in cui l'assemblea richiede richiede ed ottiene di ridurre da un fisso mensile mi sembra di 500 euro a passare al gettone di presenza e vengono ridotti tutti i compensi guarda il caso vedere che l'unico compenso che non viene toccato ma anzi mi sembra ricordare non so se è incrementato è rimasto uguale però direi un'inesattezza ma per il tempo che è passato me la perdono da solo l'unico compenso che non viene toccato è quello del presidente designato dal comune quello stesso presidente che in campagna elettorale aveva appoggiato questa amministrazione come aveva appoggiato quella precedente allora sa cosa le dico che francamente quanto lei ha sbandierato di guardare a parte il curriculum di guardare la preparazione l'esperienza di guardare il recambio generazionale francamente poteva risparmiarselo sindaco perché ci sono stati ripeto non mi ricordo se 48 o 54 cittadini pordenonesi o di altre parti che venivano anche da fuori che hanno creduto in quelle parole ci sono state le persone che hanno investito magari mezz'ora del loro tempo perché avevano già il curriculum pronto qualcuno magari qualche minuto in più c'è stato qualcuno che ha messo a mano il portafoglio e è andato in post magari ha fatto anche una coda per spedire il curriculum qualcun altro gli ha mandato via mail quindi io credo io credo che la figura che ha fatto Pordenone come città non sia stata proprio una bellissima figura almeno io ho interpretato così ma sentendo anche la gente in giro mi ricordo mi hanno chiamato me personalmente almeno 7-8 tra cui qualche mio collega tra cui qualche mio collega che aveva mandato anche il curriculum diceva di capire come mai si era andati in una scelta così poi scelta che era già stata anticipata anche dagli ordini di stampa quindi lo sapevano tutti allora io ritengo che la figura che ha fatto Pordenone grazie alle dichiarazioni del sindaco debba essere un pochino lavata io ho proposto proprio una cosa minima sindaco prima parlavamo dei contributi forse questa mozione la andiamo a discutere il caso voluto proprio stasera in quei contributi magari lei potrebbe tirare fuori credo che sia qualche centinaio di euro qualche migliaia duemila credo un conto rapido per dire a quei cittadini che hanno investito magari 20 minuti mezz'ora del loro tempo guarda abbiamo fatto delle scelte guarda inavvertitamente abbiamo forse sbagliato so che forse non vi viene bene dire la parola sbagliare però è quello che avete fatto il mio modo di vedere e dire noi pensiamo di ripagarti così hai partecipato erano qualcosa che era già deciso perché ne avevamo già deciso prima e quindi il comune di Pordenone in questa maniera vuole ripagare il tuo tempo vuole chiederti a suo modo scusa poi chiedo anche altre cose chiedo anche di metterlo mi sembra sul sito e francamente io ritengo questo è un passaggio un po' particolare che potrebbe essere lo stesso comune di Pordenone magari a chiedere trasmettendo gli atti se c'è stato qualcosa anche se il tempo ormai se ne è ampiamente andato se c'è stato qualcosa di regolare nella procedura sappiamo tutti era uscita anche sulla stampa c'era qualcuno dei candidati che aveva anche detto che era anche disposto a ricoprire il ruolo per importi inferiori ai 30.000 all'anno qualcuno mi sembra anche gratuitamente poi ha fatto un ricorso a mio modo di vedere forse non centrando appieno quello che doveva essere centrato però è un'opinione personale del tutto personale non ho letto ma da quello che ho letto sulla stampa perdonatemi il gioco di parole io credo che questo sindaco sia un modo per pulire un po' l'immagine della città nei confronti agli occhi di chi ha creduto in quello che lei diceva all'inizio poi sindaco sa come adesso concludo veramente sa come molta gente poi ha imparato anche a leggere poi col tempo le sue esternazioni noi ma non lo dico con cattiveria cioè in un senso lei è una persona che forse crede a quello che dice però poi quando si siede al tavolo con i suoi alleati si rende conto che quando lei ci viene a parlare io l'ho già ricordato altre volte di ridurre il numero degli assessori non glielo fanno fare oppure vediamo che i suoi assessori si dimettono per lasciar posto ai consiglieri quindi quindi ci troviamo sempre un aumento di costi e poi ci venite a dire che non avete i soldi per convocare i consigli comunali e ci fate discutere le questioni a tre anni di distanza a due anni di distanza francamente fa un po' ridere perché basterebbe meno assessori esterni e anche meno assessori per a mio modo di vedere tirare fuori qualche risorsa per continuare a far vedere che poi non è la città democratica ma il rispetto del regolamento che avete dimostrato questa sera credo che dimostri il contrario grazie grazie consigliere se l'amministrazione vuole replicare sì io apro la discussione in questo momento l'amministrazione potrebbe replicare se no apro la discussione io c'è qualcuno vuole replicare no facciamo due precisazioni prego signor dunque sì in effetti è un po' di tempo che aspettiamo io credo che il tempo abbia anche provato che le cose le abbiamo seguite uno due c'è una sentenza del Tar che ha validato il fatto che non abbiamo fatto nessuna irregolarità ve lo ricordo è del ce l'ha sicuramente anche lei tra le sue è la 301 del 2012 sul ricorso di registro sì 301 del 2012 e in questa sentenza che mi serve proprio per sottolineare quello che viene ampiamente descritto è che la procedura così come era stata indicata è stata seguita e alla fine è vero che ci sono i punti del genere dell'età eccetera ma alla fine io devo anche tener conto del bene della società e nel momento in cui questa scelta che quindi corrispondeva a parametri professionali di qualità corrispondeva al bene della società io ho preso quella decisione vista la sua due vista la sua passione di leggere i verbali della fiera le consiglio di leggere anche quelli precedenti però perché in quelli precedenti a quello da lei nominato avrebbe trovato che il compenso del presidente era stato diminuito mentre quello dell'amministratore delegato no e l'azione che è stata intrapresa in quel consiglio è stato di adeguare il taglio che era stato fatto al presidente all'amministratore delegato questo lo potrà sorprendere ma è così quindi alla fine si è proceduto a fare un'operazione di spending review che è stata applicata ad entrambi io non avrei altro da aggiungere grazie signor sindaco bene apriamo la discussione iscritto a parlare il consiglio Bianchini prego grazie presidente solo per sottolineare quanto ha detto dal sindaco adesso il sindaco ha detto io ho preso questa decisione ed è giusto invece dire che noi come maggioranza insieme al sindaco raggiunta abbiamo preso questa decisione per i punti che in questo momento lo stesso sindaco ha ricordato e anche giustamente il sindaco nell'ultimo passaggio ha detto guardiamo tutto quello che viene fatto non soltanto la nomina di questa persona o delle future persone ma anche di quello che si va a fare poi all'interno di un consiglio di amministrazione quindi in questo caso spendere view ma anche tutto quello che questo consiglio di amministrazione e i futuri insomma fanno nelle varie aziende in questo caso municipalizzate ed altro perché non dobbiamo focalizzarci su un nome ma ben su come funziona quella quella data azienda quella data amministrazione quella data persona anche magari però in toto se no è troppo facile ogni volta prendere solo una piccola cosa e da quello fare un caso grazie grazie consigliere bianchini nessun altro iscritto dichiaro chiuso la discussione sono aperte le dichiarazioni di voto nessun iscritto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto tanto passiamo le voto c'è un po' di tempistica sì lei ha 15 minuti 12 li ha utilizzati 3 erano residuate a 3 minuti da regolamento prego ah ho capito gli diamo la possibilità di replicare giustamente capisco che la sua amministrazione è sindaco di norma di stare fatta sindaco io li ho visti tutti i verbali francamente come l'ho già detto l'ho già detto anche altre volte io non ho problemi perché io non ho da difendere nessuno quando c'era da attaccare in questo consiglio comunale i rappresentanti no 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 sto dicendo sto dicendo che quando c'era da attaccare quelli che erano i rappresentanti del mio partito a Roma non mi sono magari perché non portavano il carcere il carcere o altre cose non mi sono mai tirato indietro dal farlo quindi no sto dicendo esponenti quindi se c'è da fare delle lamentere io non so certo per quello credo di avere un minimo di onestà intellettuale come difendo a spada tratta io dico se qualcuno ha sbagliato come la scelta io lo dico senza problemi lo sdoppiamento per far contenti tutti e due di un presidente di un amministratore delegato non è stata un'ottima scelta se però poi il compenso globale mi resta all'interno di quello che era il compenso per uno solo si può anche andare a discuterne perché se non c'è una riduzione quindi se è stato fatto un taglio ma è quello che volevo evidenziare sindaco è che il CDA il consiglio di amministrazione viene al consiglio di amministrazione viene levato giustamente in periodo di vacca e magre il mensile però al presidente no e quello che vengo a dire viene anche levato viene anche levato al collegio sindacale che è proprio una cosa fuori dal mondo allora se dobbiamo dare dei segnali fuori dal mondo perché dovrebbe essere l'organo di controllo che dovrebbe essere al di fuori e allora se dobbiamo dare dei segnali che vengono dati in toto poi sul fatto del bene della società avrei dei dubbi avrei dei dubbi sindaco perché il bene della società a mio modo di vedere ma torniamo a quello che ho detto prima lei lo può valutare giustamente sulla base delle persone sulla base dei curriculum se lei dei curriculum ha ricevuti se lei mi avesse detto guarda erano 54 o 48 non mi ricordo curriculum di Scarpari gente che non valeva però io mi ricordo che curriculum ce n'erano di peso adesso non me li chieda perché non lo direi in ogni caso ma lei ce li avrà tutti sotto mano e qua siamo sempre alle solite cose e concludo siamo sempre al voler difende e difendibile si sa benissimo come è andata la questione della fiera allora quello che è il significato profondo della mozione è dire che bisogno c'era ma quello forse è un peccato di sua esperienza iniziale che bisogno c'era di sbandiare ai 420 mandate curriculum siamo nuovi farci provare il regolamento si sapeva già come dovevano andare le cose e quello che si chiedeva era solo di evitare di far fare a Pordenone per il tramite della sua amministrazione per il tramite del suo primo cittadino la figura della città dove ancora una volta non si andava a cambiare niente perché eravamo rimasti quelli della vecchia politica ecco ci teneva solo a sottolineare questo quindi io voterò a favore di me stesso grazie grazie consigliere ribetti nessun altro iscritto pertanto prego consigliere Piccinata grazie presidente roberò soltanto un attimo credo che la vicenda sia stata ci sia già parlato abbastanza ribadisco anche che dal nostro punto di vista è stata quanto meno vergognosa nell'immagine di quanto accaduto pertanto ci comporteremo di conseguenza anche in questo voto bene consigliere Bianchini cioè io sono proprio io chiedo che certi termini per rispetto di tutti non vengano utilizzati perché è vergognoso mi fa schifo fa un po' fatica insomma un consigliere come me a lasciar stare perché per quanto in molti casi una parte dell'opposizione fa discorsi che secondo me non sono neanche da quest'aula non mi sono mai permesso di dire fa schifo o da vergognarsi quindi insomma cerchiamo di rimanere dentro i limiti abbiamo già risposto a questa mozione ognuno rimane la sua idea benissimo non andiamo oltre e non serve neanche dirlo insomma che si voterà contro bene nessun altro iscritto a parlare pongo pertanto in votazione la mozione avente il seguente oggetto mozione numero 26 2012 per il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento dell'amministrazione agli aspiranti candidati per un posto nel consiglio di amministrazione della società Pordenone Fiera S.P.A. sono aperte le votazioni chiaro chiuso le votazioni l'esito della votazione è seguente presenti 35 votanti 34 maggioranza 18 favorevoli 7 contrari 24 astenuti 3 la mozione viene respinta bene passiamo ora alla mozione numero 29 2012 invito redistribuzione deleghe del dimissionario assessore mio proponenti consiglieri Dalmas Cabibbo De Bortoli Loperfido Ribetti Tavella Picinato Peresson Giannelli chi illustrerà chi illustrerà la mozione consigliere Dalmas prego preso atto delle dimissioni dell'assessore Chiara Mio questa è la premessa valutata valutata la necessità di ridurla la spesa pubblica degli enti locali nell'ottica della spende di review richiesta dal governo Monti dei vari organismi finanziari considerata la facoltà per il sindaco di non dover necessariamente procedere con una surroga e di poter affidare le singole delega agli assessori attualmente in carico invitano la giunta a redistribuire cioè il sindaco è anche sbagliato a redistribuire le delega perché il sindaco dà le delega ho sbagliato io a redistribuire le delega dell'assessore dimissionale in luogo dell'assurroga a ridurre progressivamente il numero degli assessori comunali a zero questa è un'aggiunta no evidentemente a parlare di queste cose oggi torniamo al problema scusatemi del regolamento cioè questa è una mozione urgente e poteva essere non so attuale allora come interrogazione in quel momento mi ricordo quando per breve tempo abbiamo governato qualcosa tutto era straordinariamente urgente tutto doveva essere ridimensionato ridotto il numero degli assessori dei consiglieri regionali abbiamo fatto il disastro su questo ricordo che in questa regione si è diminuito il numero dei consiglieri regionali con una decisione fatta dal presidente Tondo io sono un auto semplificato e poi chi è arrivato dopo cioè il presidente Seracchiani la presidente Seracchiani ha scelto di ricorrere agli assessori esterni non so adesso la giunta regionale è composta credo da dieci componenti il segretario generale forse mi aiuta lui è più mi sono un po' dimenticato da dieci componenti la giunta regionale quanti assessori ha? otto ecco da otto era stato tondo ridurli tra l'altro cercando di ridurre solo due il numero degli assessori esterni e riducendo di dieci unità i consiglieri regionali c'è un bel calo di un certo peso poi è arrivata la Seracchiani ripeto è ricorsa ed è ricorsa agli assessori esterni non eletti per l'accezione di credo di Bolzonello tutti gli altri siano esterni quindi sono sette sette esterni e un interno dal consigliere regionale quindi lei è perfettamente in in sintonia con il presidente della regione quindi allora non lo so cioè esiste un problema che è quello da ricorso alla demagogia che evidentemente anche noi abbiamo cercato di fare quando abbiamo proposto questa mozione non riusciamo ad essere sempre lucidi ed è difficile essere lucidi in questo paese dove dove insomma succede un po' di tutto perché non so abbiamo sentito che il presidente del consiglio che giustamente può vantare un'ampia legittimazione popolare straordinaria porta il suo partito ad oltre il 40% non credo che la democrazia cristiana sia successo quasi mai porta il suo partito ad oltre il 40% e poi quando interviene nella massima assise del suo partito come fa l'altro giorno dice bisogna riformare la giustizia ma non si capisce come intende riformare la giustizia quando assistiamo ad un sindaco al comportamento del sindaco del professor Orsoni grande professore grande giurista no? grande avvocato perché grande giurista il quale dice che non si non si dimette poi si presenta in consiglio si dimette a fronte dello scandalo patteggia con una velocità sospetta il i quattro mesi e con una velocità non si aspetta con una rapidità particolare rispetto alla giustizia italiana e oggi dichiara che si ripresenta alle elezioni in polemica con il suo partito cioè il partito democratico anche se la Seracchiani quando c'è stato scandale di Venezia la prima cosa che ha detto noi non conosciamo non conosciamo Orsoni come iscritto al partito perché pare che non risulti iscritto al partito democratico allora prima abbiamo parlato di tasi abbiamo parlato di tasse sulla casa abbiamo scoperto che qual è stato il gioco che c'è stato imposto dalla comunità europea fare cassa prelevando i denari dagli italiani dai loro risparmi e occupandoci in modo particolare della casa ogni giorno ne sentiamo una nuova sulle riforme costituzionali penso alla riforma del Senato penso alla riforma del Senato il Senato per chiunque è sempre stato percepito come qualcosa di intangibile in questo Paese una sua caratteristica la Camera Alta bene scopriamo che il Senato deve essere l'espressione del qualcuno l'ha chiamato un po' così in modo semplificato il dopolavoro dei sindaci e si è anche detto che questo non avrà nessun costo costo per lo Stato allora io mi immagino che il sindaco Pedrotti dovrà andare una volta la settimana a Roma ha spese proprie se non ha costo per lo Stato allora vuol dire che non ha spese perché si abolisce il Senato ma la spesa sarà carico dell'amministrazione di provenienza cioè dovremo prevedere nel bilancio di previsione un capitolo per la rifusione delle spese di viaggio di trasporto vito alloggio del sindaco che si dovrà recare a Roma per svolgere le sue funzioni di senatore nelle materie che comportano l'autonomia locale sostanzialmente il senato cosiddetto federale è una materia in evoluzione ancora non si capisce no ho fatto un esempio no perché non riuscivo a capire già questo è un assurdo quantomeno che si possa immaginare una cosa del genere no e allora però passa il tempo passa il tempo c'era Monti doveva essere il salvatore della patria abbiamo scoperto che era un blef e poi sono entrate altre figure nel panorama politico di questo paese c'era stata una parola magica che era la spending review introdotta dal governo Monti noi vi avevamo fatto una proposta che era quella di istituire una commissione composta anche da esponenti della minoranza con assoluto scopo collaborativo per contenere la spesa rivedere la spesa ma soprattutto una collaborazione per fare dei bilanci che facciano delle scelte politiche allora è chiaro qui ci troviamo in una situazione perennemente emergenziale in questo paese dove è consentito dire tutto il contrario di tutto quello che oggi sembra un dovere assoluto domani diventa una virgola diventa un'inezia diventa un qualcosa di secondario questi sono i tempi nei quali viviamo e nei tempi nei quali è anche difficile mi rendo conto giustificare il fatto di rendere appetibile dal cittadino la rappresentanza nelle sue articolazioni anche più come dire più vicine al cittadino quale può essere il consiglio comunale circoscrizionale ma vorrei ricordare anche tutta la questione la polemica che c'è stata sulle circoscrizioni in questa città abbiamo discusso credo che la discussione sia ancora aperta che dovrà essere ripresa in un prossimo consiglio comunale sulla questione delle circoscrizioni francamente francamente anche lì abbiamo discusso a lungo su questioni che peraltro una mozione non poteva non poteva risolvere come certamente questa mozione che è datata qui non c'è neanche la data non la trovo più ecco dicembre no dicembre 9-7-2012 quindi e all'epoca insomma delle dimissioni della mia caro sindaco lei ha fatto una scelta io ho cercato di fare un quadro mi rendo conto confuso un po' mettendo insieme delle dei pensieri anche perché avevo perso l'attualità di quel momento ma le cose sono estremamente attuali il problema è tutto può essere relativo da Einstein poi cioè anche risparmiare 10 euro certamente può essere relativo risparmiare nel senso di ridurre la rappresentanza politica della giunta può avere un senso quando abbiamo un'amministrazione corposamente dotata di funzionari di tecnici di dirigenti e quindi può avere un senso ridurre ridurre il numero e la presenza degli assessori comunali lo si è fatto nella regione Friuli Venezia Giulia di fatti il segretario mi ha corretto prima ce n'erano 10 sono rimasti 8 noi li avevamo prevalentemente interni al consiglio oggi vanno bene gli esterni certamente una facoltà concessa ma se la giunta regionale la regione che assomma maggiori funzioni ne ha 8 credo che un'amministrazione comunale possa tranquillamente anche pensare ad accorpare delle funzioni e anche a ridurre su questo non è lo dico e qui chiudo cioè non è che io pensi a questa cosa voi dovete capire che era il momento in quel momento dovevamo dire queste cose siamo qui a discuterne a distanza di tempo anche se l'oggetto della discussione è attuale ma andrebbe attualizzato con i dati di fatto odierni ma la sostanza non cambia la sostanza è che dobbiamo capire dove possiamo incidere in che termi possiamo incidere possiamo incidere con i tagli lineari beh un esempio mi ricordo che c'era un ministro delle finanze di questo paese che diceva non c'è altro modo non è che ci sono i tagli selettivi ci sono i tagli lineari poi cominceremo a fare selezione prima si fanno i tagli lineari ed è un aggiornamento che questo si può fare io sono qui da due anni e mezzo in questo consiglio comunale potrei starmi tranquillamente a casa visto il valore della mia presenza visto il significato della mia presenza lo faccio senza indennità e non credo credo che chiunque qui dentro potrebbe potrebbe fare altrettanto potrebbe fare altrettanto però ecco se mettiamo mano alla demagogia si salve chi può allora è giusto che il sindaco sia pagato è giusto che gli assessori comunali siano pagati perché svolgono una funzione potremmo discutere sul numero sulla possibilità di accorpare queste funzioni perché non è che dentro questo palazzo non ci siano ripeto professionalità in grado di affrontare le cose lo ha fatto la regione Friglienza Giulia lo sta incominciando a fatica a fare lo Stato lo può fare anche il comune di Pordenone spero spero che non ci siano altre mozioni perché francamente non me ne ricordo più ecco poi chiudo veramente chiudo c'è un'altra questione la questione del regolamento io non sono più nella Capigruppo nella importantissima Capigruppo di questo comune non sono più dentro la Capigruppo e quindi non conosco cioè la Capigruppo è una commissione che dura 15 minuti 10 minuti ma cosa la fate a fare ma cosa ci sta a fare state lì 10 minuti a discutere che cosa allora oggi il segretario comunale sulla questione della Dares e sulla convocazione della commissione è stato estremamente puntuale abbiamo aperto una discussione sul nulla oggi cioè sulla convocazione non convocazione perché un consigliere ha fatto il suo lavoro di opposizione ma lì l'errore è vostro della maggioranza è un errore politico di conduzione di quest'aula così come sul regolamento del consiglio comunale vanno rivisti i tempi degli interventi io sto abusando del tempo e lei me ne ha dato giustamente sto abusando del tempo guardi il problema del tempo sa che è un problema attuale ma c'è un problema più grave che è quello dell'attualità delle cose che si discutono politiche e la possibilità di introdurre elementi per i quali il consiglio comunale possa avere una reale funzione di controllo attualizzando i tempi di intervento e gli strumenti di intervento che ha di cui solo l'opposizione ha un unico strumento l'interrogazione l'interpellanza e la mozione che di per sé è vincolata e condannata ad essere sistematicamente respinta perché da una parte c'è una maggioranza e dall'altra c'è una minoranza ho concluso grazie consigliere D'Armas chiedo all'amministrazione se vuole replicare se c'è qualche intervento non ci sono interventi pertanto dichiaro aperta la discussione nessuno iscritto passiamo alle dichiarazioni di voto nessuno iscritto pertanto pongo in votazione la mozione avente seguente oggetto mozione numero 29 2012 invito redistribuzione deleghe del dimissionario assessore mio dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 37 votanti 34 maggioranza 18 favorevoli 6 contrari 23 astenuti 5 la mozione è stata respinta invito i consiglieri a non parlare durante le votazioni perché è il momento più delicato mi aveva chiesto la parola il consigliere Freschi grazie presidente niente io intervengo intervengo perché all'ordine del giorno il punto successivo ci sarebbe la mozione sul riordino della provincia io ho presentato questa mozione nel lontano 20 luglio del 2012 quando all'indomani diciamo della presa di posizione del governo Monti riguardo le province dove si diceva che le province avrebbero dovuto essere riviste e riordinate sulla base del numero degli abitanti e sulla base dell'estensione territoriale a quel punto si era verificato il fatto che per quanto riguardava la nostra regione avremmo avuto la città metropolitana di Trieste e l'unica provincia quella di Udine sulla base di quella situazione ho presentato questa mozione la quale andava nell'ottica di rivedere le situazioni anche alla luce del fatto che ci sarebbe stata la città metropolitana di Venezia per cui tutto il Veneto orientale in qualche modo poteva essere interessato ad una ricomposizione in seguito alla presentazione di questa mozione veni chiamato come presentatore della mozione in regione dove si era costituita la commissione speciale per il riordino delle province e il 23 di agosto del 2012 ho avuto modo di esporre alla commissione in regione il contenuto di questa mozione il mondo è cambiato da quella data ad oggi ci sono stati in pratica tre governi che si sono succeduti e questi tre governi hanno tutti e tre ribadito il discorso della rivisitazione o abolizione delle province nel contempo intervenuta anche una norma regionale che ha cambiato completamente la situazione per cui alla luce di questo questa mozione non è neanche emendabile in quanto il testo così come è disposto ha un contenuto che non può essere in qualche modo ripreso e modificato alla luce di questo e soprattutto considerando il fatto che in seguito a questa mozione a seguire a questa mozione ci sono altri argomenti sui quali possiamo parlare e toccare l'argomento io in questo momento chiedo al presidente che venga ritirata la mozione che ho presentato grazie lei chiede il ritiro della mozione vabbè prendo atto bene allora la mozione sulle province viene ritirata prego grazie presidente sono convinta solo due minuti perché il discorso del ritiro della mozione se mi dà questi due minuti dico però un aspetto relativamente a questa mozione che è il seguente ho sotto mano come bene ha detto il collega Freschi ciò che aveva dichiarato in consiglio regionale in quella data il 23 agosto del 2012 perché non passa inosservato un aspetto che è vero che si sono che si sono avvicendati governi nazionali diversi e che tutti sono andati verso quella che è la volontà di riordinare ma userei il termine giusto abolire le province allora lui è un esponente di questa amministrazione di maggioranza e sosteneva e sosteneva e in qualche modo credo che tutti noi in cuore nostro sosteniamo ancora l'identità di questa provincia quella che doveva essere appunto l'importanza di un territorio diversificato all'interno della nostra regione va evidenziato però che prima ancora della norma statale la nostra amministrazione in Friuli Venezia Giulia di centro-sinistra ha deciso di modificare lo statuto e di abrogare per prima con una legge voto ancora prima di quanto è stato fatto a livello nazionale le province nella nostra regione non mi soffermo sul fatto di chi doveva votare prima o dopo sì Presidente prima o dopo ma il dato politico però è importante ed è importante perché anche esponenti di centro-sinistra o di persone che comunque sostengono un'amministrazione di centro-sinistra erano contrari a tutto questo io credo che non sia pur non essendomi io scagliata contro questa decisione per motivi di razionalizzazione di spesa bla 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 non credo che comunque sia stata una buona scelta ancora una volta anticipare i tempi del governo nazionale grazie va bene grazie bene passiamo alla mozione numero 31 2012 accorpamento dei comuni prego consigliere Giannelli che tempismo allora signori io non è tanto che l'ho scritta sta roba spero di ricordarmi un dato è certo che alla base di ogni riforma alla base della speranza che noi abbiamo per uscire da questa situazione che deriva da 40 anni di mal governo nazionale e in parte da grandi difficoltà di governo regionale nella storia alla base di questo c'è la la soppressione e l'eliminazione di gran parte della burocrazia e dei burocrati in questo senso Renzi è partito con il piede giusto vi basti solo pensare che ha eliminato il magistrato alle acque di Venezia che doveva essere l'ente che sorvegliava il Mose noi professionisti si ma ha avvocato a sé queste responsabilità noi professionisti ad esempio sappiamo bene che cosa vuol dire avere a che fare con la con la burocrazia però diciamo che un primo passo verso lo snellimento dell'apparato quello che porta il cancro ai cittadini è proprio la burocrazia perché la burocrazia presuppone dei costi che sono insostenibili e delle lentezze che sono insostenibili ovviamente altri sono i mali che vessano l'Italia ma uno di questi è la burocrazia ora si capisce bene che quando gli apparati sono tanti il fatto di poterli accorpare e unificare alcune necessità è una cosa che fa bene allo snellimento della burocrazia e in seconda analisi c'è anche da ricordare che non vi è solo l'accorpamento di tante funzioni vi è anche la possibilità di dare risposte abbastanza omogenee a situazioni chiamiamole analoghe o sovrapponibili nel caso specifico questa mozione che a dire a onore del vero nasce quando facevo quando mi onoravo di far parte con l'amato sindaco del gruppo misto l'amato in senso non politico ma in senso umano perché politicamente non si può se un sindaco devo pure arrivare a parlare perché non mi ricordo proprio niente no no mi ricordo tutto quindi in tempi di spendi review in tempi in cui è giusto cercare di risparmiare su e creare delle sinergie ecco che una mozione che chiede che chiede poi quello che ho visto suggerisce anche parte della maggioranza con un ordine del giorno che a breve dovrebbe essere presentato chiede che alcuni comuni confiniori si possano mettere assieme per arrivare a delle attività e delle politiche partecipate e condivise naturalmente in questo ordine in questa mozione si chiede semplicemente di istituire un primo passo io non vado a dire cosa come quando perché dico semplicemente che è giusto mettere in essere tutte le iniziative necessarie a verificare la possibilità di un accorpamento tra i comuni Pordenone Cordenone Spoccia e Roveredo in Piano ora qualcuno potrebbe eccepire sul fatto dell'identità storica ogni comune ogni raggruppamento di persone ha una sua identità si bani bene che anche all'interno degli stessi comuni sono identità storiche diverse addirittura tra zone e zone va da sé che torre molto vicina a Cordenone ha delle identità storiche molto diverse da Borgomeduna più legata ad altri ambiti ad esempio alla bassa ma un fatto accertato è che l'identità storica non viene mai difesa l'identità storica ricordatevelo bene se dovesse nascere questo problema l'identità storica non viene mai salvaguardata dalla burocrazia la burocrazia non guarda in faccia nessuno non può entrare nel merito di questioni identitarie eccetera quindi il fatto di accorpare dei comuni quantomeno su alcune funzioni strategiche che sono prima tra tutte i piani urbanistici ci provarono i politici di 25 anni fa forse 30 anni con il famoso PUIAP quel primo piano diciamo urbanistico che doveva accorpare quella che si chiamava l'Interland Pordenone Porsia e Cordenosa ecco io recupererei quello che di buono c'è stato quella volta sotto il profilo urbanistico che è una delle basi dell'accorpamento dei comuni cioè fare in modo che le scelte urbanistiche che siano partecipate tra queste anime tengo a dire inoltre anche se non ricordo sia stato scritto nella mia mozione vedete Pordenone in quanto capoluogo di provincia spesso paga uno scotto altissimo perché perché deve fornire servizi che sono tipici del capoluogo di provincia cioè i più importanti deve dare un'impostazione che è tipica del capoluogo di provincia cioè deve dare le scuole deve dare tutte le altre però spesso e volentieri molta gente va a abitare all'esterno del comune di Pordenone perché le aree costano meno e quindi in questi anni il comune di Pordenone si è trovato ad avere una sorta di fuoriuscita di gran parte della popolazione che è andata a farsi le villette a Cordenons Roverevo Porcia Fontana Fredda in questo caso e quindi non incamerando più soldi di bucalossi e di tasse relative alle costruzioni ma dovendo fornire sempre che so faccio un esempio è giusto che un capoluogo di provincia dia un teatro come si dice ma gran parte della gente che va a teatro è andata a farsi la casetta a Cordenons perché il terreno costava meno perché aveva meno costi e il comune di Pordenone non è avuto alcun beneficio quindi teniamo presente che in questo caso un accorpamento dei comuni porta riporta io credo sotto un ambito unico tutta una serie di sinergie che oggi non sono unificate questo l'ho detto il nostro territorio alla luce delle realtà produttive e culturali è sicuramente composto da Cordenons porciero vevedo cioè a parte i piccoli campanilismi guardate che non c'è soluzione di continuità tra questi interland io non credo che voi prendendo la bicicletta possiate riconoscervi cordenonesi piuttosto che purigliesi o cordenonesi perché vi siete spostati ormai tutt'uno molto organicamente ben come si dice ben riconoscibile la grande Pordenone e direi se ci fossero i sindaci di Porcia di Cordenons e di Roveredo che nulla andremo a togliere a questi comuni il fatto di sedersi allo stesso tavolo per decidere assieme le cose che devono essere fatte per questo territorio chiamo questi ettari di comuni che possono vivere assieme ultima cosa qualcuno potrebbe avvicinare questo problema al fatto provincia sì provincia no sgombro il campo almeno per quanto mi riguarda perché formalmente vorrei che sia chiaro che questa mozione parte cioè non è una mozione del gruppo che mi onoro di presiedere ma è una mozione che partiva da uno spirito che avevo e spero che gli amici di Forza Italia condividano voglio dire infine che non esiste nessun tipo di avvicinamento al problema dell'eliminazione della provincia qua lo dico sicuro di pensare cioè di dire solo quello che penso l'eliminazione della provincia che dal mio punto di vista è una cosa buona e giusta è un fatto l'accorpamento dei comuni non deve essere eletto come ah eliminano la provincia accorpano i comuni cioè una mini provincia non è così voi lo sapete bene meglio di me non sta a me spiegare le funzioni della provincia l'accorpamento dei comuni è una cosa buona e giusta e spero che questa mozione sia votata dalla maggioranza va da sé che il risultato del dibattito per quanto mi riguarda influirà su quello che dovrebbe essere un ordine del giorno che la maggioranza mi pare dovrebbe presentare su questo stesso argomento grazie consigliere Giannelli chiedo se l'amministrazione vuole intervenire no bene passiamo per nata la discussione consigliere Salvador prego grazie presidente grazie sindaco grazie anche al consigliere Giannelli che ha introdotto la sua mozione che sostanzialmente ci vede d'accordo ci vede d'accordo anche se una piccola precisazione Francesco l'aggiunta del comune secondo noi di Sanquirino nel ragionamento che fai e quindi formalmente chiedo anche di poterla emendare con l'aggiunta del comune di Sanquirino semplicemente perché comunque perché no perché in termini amministrativi c'è già un processo condiviso col comune pertanto credo che sia il ragionamento più corretto da fare mi trovi totalmente d'accordo con il tuo con il tuo con il tuo ragionamento che poni sulla mozione mi vede mi vede d'accordo anche sulla voto favorevole alla tua mozione noi volevamo come dire contribuire a questo dibattito che per noi è preziosissimo non per niente qualche mese fa avevamo cercato come lista civica insieme anche agli amici di Vivo Pordenone e il Partito Democratico di riaprire un po' il dibattito sulla questione dell'accomparamento dei comuni del nostro conurbamento come si suole dire l'avevamo credo anche già annunciato la necessità di porre un ordine del giorno su questo tema il giorno in cui credo di ricordare discutemmo la prima parte sulle circoscrizioni non tanto perché il valore il punto di ragionamento sulle circoscrizioni fosse quello legato ai costi delle stesse oppure dell'efficienza delle persone che ci lavorano all'interno delle circoscrizioni bensì sulla capacità della politica e della sua espressione amministrativa di sapere in qualche maniera rappresentare e interpretare il territorio quindi il punto di ragionamento era quale territorio rappresentare e amministrare come ormai il ritornello di questi anni ci ricorda tutte le volte lo ricordava anche il nostro consigliere freschi che il mondo è cambiato è chiaro che non possiamo affrontare gli anni prossimi nei termini nei paradigmi in qualche maniera che ci sono presentati negli anni scorsi anche perché la crisi economica ha mostrato come i ragionamenti gli strumenti con i quali facevamo i ragionamenti in precedenza hanno mostrato dei difetti esempio se noi ragioniamo sulla crisi delle grandi aziende da Porcia a Zoppola per citare i comuni dove siedono la Idelstam e l'Electrolux non possiamo dire che sono la crisi del comune di Porcia o del comune di Zoppola e dell'intero sistema del territorio chiaramente come anche il sistema perché non dimentichiamo che il sistema del commercio stesso è in crisi come dire lo strumento del centro commerciale in qualche maniera cominciano a mostrare la corda e la frammentazione politica che è caratterizzato da sempre questi territori quindi la molteplicità dei comuni in qualche maniera ha fatto perdere anche il sistema di regia di questi territori pertanto quando si istituisce un centro commerciale non si pensa chiaramente a quanti centri commerciali ci sono nel proprio territorio inteso come aria vasta bensì al proprio territorio stessa cosa vale per le zone industriali nessuno vuole dare colpa al passato però chiaramente la frammentazione amministrativa ha portato anche una mancanza di regia e di visione complessiva del territorio in questi termini e adesso ci troviamo in queste difficoltà quindi si ripone la necessità appunto di ripensare il territorio in maniera organica un organo un organo un organo un organo un organico che è capace a pensare alle funzioni delle proprie parti e questo ci permette anche poi una volta individuato l'organismo e le funzioni delle proprie parti dell'intero territorio ci pone anche la capacità di pensare alla vocazione di un territorio una vocazione di un territorio non può essere che è quella che ci porterà si può portare fuori dalla crisi cioè la capacità di ricreare un'identità e una vocazione sicuramente non la puoi fare con 51 o 52 credo comuni della provincia o ex fra poco provincia di Pordenone questo dovrebbe essere un tema quella della organizzazione del territorio che dovrebbe essere un primo punto programmatico di una linea programmatica di qualsiasi amministratore di qualsiasi sindaco un po' perché siamo convinti che i sindaci saranno i protagonisti un po' degli scenari futuri tra l'altro le politiche comunitarie europee investiranno moltissimo sul termine città e quindi i sindaci torneranno a essere protagonisti per essere protagonisti dovranno fare tre cose la prima iniziare un sistema e una struttura di alleanze con gli altri sindaci del proprio territorio secondo è come dire riconoscere una nuova dimensione territoriale sulla quale puoi agire e terzo infine che è poi la conseguenza delle prime due quindi un sistema di alleanze adeguato e un sistema di rappresentanza adeguato territoriale e anche la capacità poi di generare un'identità territoriale noi ci riconosciamo in questo appunto nelle parole del ministro del Rio che dice che appunto i luoghi le comunità che sapranno uscire meglio della crisi sono quelle che faranno sinergia e troveranno un sistema di accorpamento di aggregazione adeguato prego scusate allora l'ordine del giorno in sostanza chiede al sindaco al sindaco Claudio Pedrotti ed è un ordine del giorno che è firmato dalla lista civica del fiume il partito democratico e la lista civica a via Pordenone c'è stato il contributo e l'adesione anche della lista civica il ponte la lista civica del ben e della lista civica quindi sono tutti parecchio sentimento civico la nuova Pordenone è chiaro che per noi è importantissimo che anche le altre forze tra le quali cito una perché ha presentato la mozione quella di Francesco Giannelli di cui anche capogruppo Forza Italia e ovviamente la Lega Nord e Fratelli d'Italia in qualche maniera votino a favore e firmino anche questo ordine del giorno perché chiaramente la forza politica con la quale danno il mandato al sindaco il sindaco di iniziare un percorso di discussione con i sindaci del attuale ambito quindi con i sindaci di Porcia Roveredo Cordenonsi San Quirino sia ovviamente più forte possibile su questo percorso che noi chiediamo al sindaco di iniziare vorrei precisare alcune cose la prima è che deve essere chiaramente il più condiviso possibile il più condiviso possibile significa che i passaggi di questo processo devono essere pensati in modo tale da non escludere nessuno dalla cittadinanza chiaramente ma anche alle forze politiche che la rappresentano c'è stato anche recentemente un cambio un cambio dalle recentissime tornate amministrative un cambio di due di due comuni ovvero il comune di Roveredo e il comune di Porcia non c'entra il colore politico in questo anzi non c'entra assolutamente nulla è proprio un aspetto di rinnovato pensiero sulla nostra sulla nostra città e sulle nostre città quindi più condiviso è questo documento è il passaggio il percorso che dovrà fare il nostro sindaco che ha come dire il mandato politico perché è il sindaco del capoluogo ed è giusto che sia lui a iniziare questo percorso e che chiami gli altri sindaci per iniziare questo percorso di unione che poi è la forma giuridica più appropriata forse il primo passaggio c'è chiaramente in questo dibattito chi ha a favore le fusioni questo è il mio personalissimo e non della lista che rappresenta in questo momento che parlo però per me la fusion è un passaggio che nel futuro dovrà essere previsto in qualche maniera ma è chiaro che l'unione dei comuni è il primo passaggio poi sarà l'esperienza di questa unione che dovrà in qualche maniera indicare un'ulteriore strada la seconda è che sul suggerimento tra l'altro delle forze di opposizione che in qualche maniera il processo il punto fondativo sia la possibilità da parte dei sindaci dei cinque comuni di come dire iniziare il dibattito anche in maniera pubblica ovvero convocando se fosse possibile non lo so in modalità un consiglio comunale aperto di tutti i cinque comuni in maniera tale che fosse il primo punto fondante questo l'ha suggerito la lista civica del ponte con il consigliere Lory Pasut insieme appunto alla lista civica del bene insomma era a favore anche la nuova Pordenone di Pedicini infine vorrei che è Tavella è ragione scusami è un'altra cosa che per noi è fondamentale è che in questo processo siano protagonisti i sindaci lo dissi quella volta in cui anticipai la possibilità di presentare questo ordine del giorno perché i sindaci in qualche maniera hanno una funzione di garante perché in tre termini primo perché rappresentano la cittadinanza tutta e secondo perché rappresentano anche in qualche maniera in termini amministrativi anche le forze di opposizione dei propri consigli comunali e infine terzo punto i sindaci hanno la se diventano loro protagonisti i sindaci di questo percorso chiaramente le identità culturali e cittadine che prima ricordava che prima ricordava il consigliere Giannelli sono sicuramente tutelate io adesso non sto a leggere i punti dell'ordine del giorno perché il termine il tempo è anche scaduto verrà distribuito verrà distribuito esatto e la ringrazio grazie consigliere Salvador consigliere Pedicini prego sì grazie presidente vedo che si lega questo ordine del giorno è stato citato ampiamente a quella che viene definita la soppressione delle province e un piccolo accenno poi entro ovviamente nel merito della mozione va fatto vorrei ricordarvi così un aneddoto che forse può far piacere a qualcuno quando sono andato alla piccola cerimonia che l'allora assessore della provincia Brusadin andava in quiescenza e faceva un piccolo rinfresco ha citato un esempio 30 anni in provincia è stato dipendente e ha detto che quando lui è stato assunto 30 anni prima in provincia è andato a casa e ha detto la mamma ho vinto il concorso sono in provincia come mi hanno assunto in provincia la mamma si è messa a piangere e ha detto figlio mio ma non potevi fare domande in comune perché le province le devono chiudere che cavolo sei andato a fare a farti dare il posto in provincia ed era 30 anni prima è andato anche in pensione e le province continuano a stare là il dibattito sulle province che oggi raccoglie l'Italia ho raccontato questo episodio per dire che non è una cosa di ieri che si parla di abolire le province le province sono nello statuto albertino ce le siamo trascinate tutti sono organizzati con organizzazioni anche le associazioni le aziende si organizzano su base nazionale regionale provinciale e comunale bisogna oggi con questa nuova idea è quella di semplificare i processi amministrativi del controllo del territorio della gestione del territorio e allora si ragiona qual è l'elemento che può essere in più e sicuramente è stato individuato nella provincia ma da questo ordinamento stato regione provincia comune togliere la provincia obbliga lo stato la regione e i comuni a riorganizzarsi completamente perché non è possibile togliere semplicemente l'ente provincia l'ente intermedio e pensare che la regione rimanga così come oggi e svolga le stesse identiche funzioni nello stesso identico modo che i comuni continuino a svolgere così ma lo stesso vale per lo stato il problema che oggi noi abbiamo è che tutti ragionano di togliere le province ma nessuno pensa anche di riformare la propria organizzazione regione Friuli-Venezia-Giulia la regione Friuli-Venezia-Giulia è una regione che andrebbe riformata nella sua organizzazione io come me penso a tanti altri ho tantissimi episodi in cui la regione cerca di organizzare le cose in modo tale che serve solo per giustificare se stesso io ricordo una volta che ho partecipato a una riunione non era neanche di mia competenza sull'albergo diffuso mi ricordo vado in questa riunione il funzionario regionale che presideva il dirigente regionale che presideva questa riunione dice le domande vengono presentate alle province voi fate l'istruttoria poi ce le date a noi noi le controlliamo noi diamo i fondi poi io mi sono alzato dal tavolo me ne sono andato ho detto visto che fate tutte queste belle cose fatele tutte perché noi non facciamo proprio niente fatele tutte voi e così abbiamo finito perché o ci date la delega oppure ve le tenete se la sono tenuta devono giustificare i 3500 3600 dipendenti della funzionaria l'unico che aveva cominciato veramente a metterci le mani era Illy che stava riorganizzando la nostra regione veramente su un piano di efficienza ha sfoltito i dirigenti aveva cominciato a riorganizzare gli uffici eccetera ma Illy evidentemente anche lui era un po' un alieno perché evidentemente né tondo che è venuto dopo ne penso neanche questa amministrazione facciano buon buon uso di quello che lui aveva fatto e quindi succederà molto poco bisogna avere tempo la regione Friuli Venezia Giulia andrebbe riformata ma tant'è che le province tutti hanno deciso che vanno abolite sono state abolite? no la regione Friuli Venezia Giulia non ha abolito le province la regione Friuli Venezia Giulia le ha mantenute come stanno ha solo eliminato l'elezione diretta delle province perché tra il primo di ottobre e novembre questo consiglio comunale come tutti i 51 consigli comunali della provincia di Pordenone saranno chiamati a eleggere 24 consiglieri provinciali che poi a loro volta leggeranno un presidente e tre assessori quindi i 24 consiglieri comunali e provinciali sono oggi e 24 saranno ad ottobre in poi e cosa è cambiato? la provincia cambia luogo? funzioni? no le funzioni sono le stesse ma poi le riorganizzeremo vedremo intanto non cambia assolutamente nulla questo è giusto per dirlo quel tentativo di commissione regionale di cui faceva riferimento per il cambiamento quella superava la questione province ma riorganizzava anche la regione era un progetto molto più ampio non se ne è fatto niente perché evidentemente nessuno si vuole assumere la responsabilità vera e propria di fare quelle riforme di cui abbiamo veramente bisogno io mi auguro di tutto cuore che ci riesca Renzi perché il suo mandato del 40,8% di quello di fare le riforme se le fa ci fa una cortesia a tutti quanti e io penso che i cittadini che l'abbiano votato lo abbiano votato proprio per quello e lui lo sa bene riuscirà a farle? speriamo perché se no questo povero paese non le fa ma torniamo al conurbamento torniamo all'unione che sono anch'io d'accordo con quanto diceva il consigliere Salvador di unione dobbiamo parlare certamente non di fusione in questo momento perché noi dobbiamo vedere questo come l'elemento fondamentale del nostro futuro perché a prescindere se le province le aboliranno o non le aboliranno avranno sicuramente delle funzioni inferiori oppure la nostra rappresentanza la nostra sopravvivenza e parlo del capoluogo di provincia sarà estremamente legato a creare questo nuovo organismo di unione di idee di forze e di richieste anche e di necessità che essendo condivise da una popolazione di centomila abitanti saranno la vera massa critica che potremmo contare il vero problema è che noi già come provincia di Pordenone a livello regionale contiamo molto poco perché oggi nell'ordinamento della regione Friuli Venezia Giulia le province forti sono due i famosi vasi di ferro Udine e Trieste e i vasi di Coccio sono Gorizia e Pordenone perché noi non riusciamo vi do un esempio per tutti noi abbiamo un problema di esondazione che si può ripetere negli anni lo avesse avuto Udine lo stesso identico problema che abbiamo noi da noi ce l'abbiamo e speriamo che non piova se ce l'avesse avuto Udine avrebbero fatto una legge speciale ce l'avrebbero fatta pagare a tutti noi della regione ma la legge speciale per mettere in sicurezza il territorio di Udine l'avrebbero fatta per la provincia di Pordenone per la città di Pordenone la messa in sicurezza è quella di aver rinforzato gli argini fine della questione e sappiamo benissimo che se abbiamo una precipitazione come il 65 e il 66 torniamo sotto ma non importa il problema è che noi non abbiamo la forza in questo momento guardate solamente i dati di opere pubbliche fatte in provincia di Udine fatte in provincia di Pordenone guardate quello che era il libro bianco scritto dal buon dottor Casetta quella del riequilibrio delle risorse in regione voi pensate usato prima dell'ultima campagna elettorale pubblicizzato messo lì che fine ha fatto quel libretto io me lo sono conservato l'ho messo da parte voi pensate che fra 5 anni la provincia di Pordenone avrà tutte le cose che non aveva 5 anni prima voi pensate che tutto ciò che è scritto nel libro di Casetta noi li avremo tutte il riequilibrio delle risorse ci sarà perché questa è una provincia debole nei confronti della regione è debole politicamente è debole perché noi non riusciamo ad essere massa critica nei confronti di questa regione ecco che allora perché siamo divisi perché non c'è riconoscimento pieno del capoluogo di provincia nella città di Pordenone perché San Vito è un'isola a sé Spilimbergo ruota su Udine e il resto della provincia ci riconosce a stento allora questo è il problema che noi abbiamo allora dobbiamo creare una massa critica che possa farsi sentire i 100.000 abitanti del conurbamento di Pordenone sono massa critica sono forza se i 100.000 abitanti hanno la stessa idea lo stesso progetto le stesse aspirazioni riusciranno ad ottenere determinate cose cose che oggi noi non otteniamo quindi la vera sfida del futuro è proprio questa ma ne va della nostra sopravvivenza oggi però e lo dico con estrema chiarezza signor sindaco guardi cosa ha fatto la comunità europea nel momento che voleva diventare una grande comunità di 24 stati per fare questo bisogna investire non si può farlo gratis o pensando che qualcun altro ci paghi il conto noi dobbiamo perché ne va della nostra sopravvivenza come città capoluogo e come Pordenone noi oggi dobbiamo investire su questi comuni dobbiamo dare a loro determinate possibilità perché costi meno per loro far parte di questa unione perché abbiamo dei vantaggi a far parte di questa unione e chi deve investire questo è chi è più forte non chi è più debole oggi noi dobbiamo fare questo ma dobbiamo fare una politica di investimento perché ci dobbiamo credere prima di tutto noi come questa amministrazione ci dobbiamo credere fino in fondo e allora possiamo sperare che anche i comuni perché a parlarne ne parliamo da anni ha ragione il consigliere Salvador non è una questione di colore politico perché sono cambiate due amministrazioni ma i sindaci che c'erano prima erano perfettamente convinti sia il sindaco Turchette di Porcia che il sindaco di Roveredo Berniak anzi aveva già l'unione con il comune di Pordenone quindi non cambierà assolutamente niente il nuovo sindaco penseranno di fare lo stesso ma quindi non è un problema politico non è un problema di colore politico però dobbiamo dare la forza a questo progetto che è il progetto a mio avviso del nostro futuro e mi fermo e quindi la mozione che ha presentato il consigliere Giannelli va anche in quest'ordine va anche sottoscritta la sottoscriviamo abbiamo sottoscritto con forza la mozione che hanno presentato anche gli altri gruppi io spero che veramente come diceva il consigliere Salvador ci sia l'unanimità di questo consiglio ma poi dobbiamo anche pensare di mettere delle risorse per questo e dobbiamo ancora chiedere ai comuni vicino che partecipino a questo nuovo progetto di nuova organizzazione pensando anche che saremo noi a fare l'investimento maggiore lo so all'inizio ci costerà caro questo però poi i frutti che noi avremo da questo risultato saranno dei frutti sicuramente positivi mi fermo qui perché il tempo è ampiamente finito grazie grazie consigliere Pedicini consigliere Tomasello prego grazie presidente signor sindaco la mozione che oggi è stata presentata dal consigliere Giannelli e anche l'ordine del giorno presentata dal consigliere Salvador fa rispuntare rendere di attualità quello slogan di cui parlavamo un paio di mesi fa lo slogan della città dei centomila abitanti in particolare i due documenti forse di più forse l'ordine del giorno fa riferimento alla cosiddetta conurbazione composta quindi da questi cinque comuni infatti Pordenone Cordenone Sporciero Verede Sanquirino non mi sembra mi sembra che la mozione Giannelli ometta Sanquirino ma penso che appunto presenterà l'emendamento si rende anche quella proposta nostra della maggioranza che ha preso anche con la quale hanno aderito anche il ponte all'istica civica del Benua Pordenone che la mozione Giannelli certamente è sorta non tanto perché si parla dell'eliminazione dell'ente provincia o dell'ente provinciale delle province perché in un momento di crisi noi riteniamo che in un momento di crisi economica come questa è un qualcosa che va fatto e rappresenta in questo momento sicuramente l'unione di questi cinque comuni la proposta dell'unione dei cinque comuni certamente uno strumento possibile per una possibile immediata risposta e per assicurare tutti quegli obiettivi che nell'ordine del giorno ha elencato anche Salvador ma certamente almeno per me ma penso anche per tutti i miei colleghi del gruppo questo noi riteniamo che sia non è un punto di arrivo ma semmai è un punto di partenza per poter giungere ad un progetto che si conclude con un legame un pochettino più forte tra i cinque comuni sono nominati prima il consigliere Salvador parlava di fusione su questo personalmente io sono anche io concordo pienamente con quello che ha detto Marco sulla questione quindi qualche pensiero lungo io e anche il mio gruppo vogliamo esternare anche al fine di aiutare ad imbastire meglio un progetto più strutturato nel futuro prima di tutto dovremmo passare per parlare di cominciare dal principio di superare tra i cinque comuni le divisioni amministrative in un territorio che per noi è già fisicamente unito che per noi costituisce ormai un tutt'uno quindi il comune di Pordenone Cordenone Sanquirino Roveredo e Porcia è un tutt'uno sotto l'aspetto urbano non esistono non esistono più confini non c'è soluzione di continuità in un'area che si presenta compatta e quindi è necessario è necessario senza però recuperare le esperienze passate e proporre un qualcosa più avanti quindi noi siamo favorevoli all'ordine del giorno siamo favorevoli che lei signor sindaco porti incontri le altre amministrazioni per appunto parlare di unione tra i comuni però noi vogliamo una cosa che si concluda poi con una cosa ben diversa come le dicevo prima che si arrivi alla conclusione quindi il dialogo ci deve essere guai se mancherebbe ma non ci si può perché noi riteniamo che non ci si può soltanto limitare a gestire qualche servizio se si vuole organizzare o programmare o amministrare certamente la conurbazione come corpo unico e l'obiettivo della fusione non ha alternative la meta finale per noi è io personalmente penso che sia un unico comune tra i cinque quindi iniziamo la discussione partiamo con l'unione però la meta finale personalmente ritengo che sia il comune il comune unico quindi non dobbiamo più rifarci alle vecchie esperienze all'esperienza del conurbamento scusate perché sto prendendo un po' per fare anche di fretta le vecchie esperienze del conurbamento perché per noi è un'esperienza ormai io la ritengo una esperienza decrepita ma è necessario ad andare oltre oltre quindi andare oltre all'aggregazione dell'unione noi riteniamo anche che il ragionamento sulla fusione dei comuni ritorna di attualità anche se questa forma di aggregazione è a prescindere dal fatto che sverranno abolite le province ritorna certamente di attualità con l'eliminazione delle province noi riteniamo che appunto la destra tagliamento ha bisogno di una città che costituisca in maniera equilibrata senza calpestare la dignità di ogni comunità un polo di rappresentanza e di espressione è un impegno che evidenzia opportunità in virtù del suo rafforzamento la città dei centomila abitanti potrebbe esprimere maggiori capacità di relazione quindi se è forte su scala regionale avrebbe quindi il ruolo di capoluogo di un territorio alleggerito dal peso dell'ente intermedio e costituirebbe secondo me e secondo noi quindi un riferimento di un'area vasta quindi concludo dicendo che noi riteniamo che la mozione e l'ordine del giorno sia un ottimo punto di partenza e quindi il mio gruppo voterà in modo favorevole sia la mozione di Giannelli ma anche l'ordine del giorno la mozione con l'emendamento se sarà presentato con l'emendamento indicando anche il comune di San Quirino grazie grazie consigliere consigliere Dalmas prego favorevole la mozione Giannelli qui prendo il vostro ordine del giorno cioè fate di tutto per rendervi antipatici no c'è una una simmetria così evidente così volgara nel modo di procedere per cui tirate fuori avete tirato fuori ripreso questo antico tema della città dei centomila abitanti una cosa con la quale siamo tutti d'accordo sfido chiunque non esserlo nel momento in cui davanti a questo cupio di solvi che c'è stato in questo paese per cui si tolgono le province l'unica cosa certa è che si è tolta la provincia di Pordenone perché nel sistema dell'autonomia del Friuli Venezia e Giulia la regione a competenza primaria in materia di ordinamento degli eventi locali l'unica cosa che la maggioranza che governa la regione di Pordenone di San Giulia ha fatto è stata quella di chiudere diciamo di fatto di trasformare come si dice qui correttamente la provincia da ente di primo grado elettivo in ente di secondo grado dove ci vanno i consiglieri comunali i sindaci con a fare che cosa non si sa io non ho letto esattamente il testo ma mi sembra una questione molto come dire è difficile da spiegare all'elettorato non so quale sia poi la effettiva razionalizzazione che pensate di realizzare in questo modo meglio che il legislatore regionale pensa di realizzare e si citano nel vostro ordine del giorno le linee guida del 31 ottobre 2013 linee guida che dovranno alle quali seguirà credo una proposta di legge un disegno di legge un qualcosa che sia di iniziativa di questione regionale ma diciamo della maggioranza o dell'aggiunta regionale su come dovrà essere organizzato architettato il sistema delle autonomie e va bene prendiamo atto che la provincia di Udina resiste per un periodo di tempo la provincia di Pordano si trasforma in un ente di secondo grado non più elettiva quindi perde peso politico perde peso politico i costi saranno gli stessi ma comunque perde peso politico questo è il dato chiarissimo il dato chiarissimo perde peso politico non dimagrisce in termini di costi perde peso politico e allora davanti a questo voi avete pensato di rispolverare questo antico tema che non è una vostra prerogativa perché qui qualcuno ha la memoria corta una questione antica di questo consiglio comunale che un tempo era nota come conurbamento e sulla quale il pordenonese può il cittadino dice ma sì perché no insomma questa idea della città di centomila abitanti potrei anche citarvi quali erano le forze politiche che sostenevano direi trasversali sosteneva questa cosa io dico certamente non siamo contrari siamo favorevoli a questo ma siamo favorevoli in un quadro che è cambiato drammaticamente cambiato in un territorio che è devastato dove gli scempi li abbiamo già commessi compiuti dove non ci vuole una mente geniale per pensare che possiamo unificare i servizi e magari un domani anche i comuni fare un unico comune tra Pordenone Cordenone Porcia visto che con lo stesso marzo a piede io raggiungo in dieci minuti a piedi vado a Cordenone se ci vado anche a Porcia quello che diceva Gianelli prima e Fide Conti penso che sia di buon senso che tutti l'hanno compreso una questione antica io sono sorpreso davanti alla povertà con cui affrontate queste cose perché il quadro non è più lo stesso perché il nostro sistema economico sociale culturale è cambiato economico è cambiato questi sono panicelli caldi che voi oggi esibite cercando di correggere una mozione che vi dava fastidio perché il problema qual è? non sapete come procedere e quindi vi inventate un ordine del giorno che ha un suo rigore logico certamente non lo discuto ma che dietro nasconde mille insidie incominciando dall'inizio la giunta dovrà dirci quali sono la giunta regionale dovrà dirci perché depositaria di una delega statutaria legge costituzionale dello stato che le affida competenza primaria in materia di organizzazione degli enti locali quindi sparisce la provincia di polderone se non una questione dei detti lavori perdiamo peso politico e allora dobbiamo puntare alla vecchia idea del conurbamento nel frattempo la nostra industria sappiamo come è messa nel frattempo vogliamo aprire un altro capitolo apriamo il capitolo della sanità e vediamo come è messa andiamo ad affrontare le questioni sulle quali c'è stato un ampio dibattito in questi anni sono tutte perse così nella notte dei tempi il deserto dei tartari il capitano drogo e non so chi altro ma di cosa stiamo parlando non facciamo la fusione dei comuni perché non ce la facciamo quindi partiamo dall'unione dei comuni siete tutto un decanage continuo costante nella vostra capacità di argomentare e mi rivolgo alla maggioranza mi rivolgo a voi che siete i detentori del potere e delle maggiori responsabilità allora il nostro sistema è complicato perché qui c'è un'abbondanza una ridondanza di enti e io chiedo a questa di conoscere cosa cosa pensa questa regione come intende organizzare il sistema sanitario pensate che sia una questione banale pensate che voi qui dentro parlate scrivete di alcune cose avete dimenticato una questione fondamentale qual è il nostro ruolo con le nostre due aziende una che è l'azienda 6 l'altra l'azienda ospedaliera dove vanno a finire qui dentro non è compito dei comuni cioè con chi stiamo ma con chi stiamo parlando io ricordo che lei signor sindaco alcuni mesi fa è stato protagonista nei giornali su questa questione della fusione del conurbamento di queste cose benissimo io sono con lei siamo tutti d'accordo puntiamo a costruire la città dei centomila abitanti ma su che cosa questo ordine del giorno avrebbe senso se gli altri comuni avessero fatto contestualmente un altro ordine del giorno dello stesso tenore ci fosse stata una reale convergenza degli altri comuni su questo per fare cosa l'unione dei comuni l'unione dei comuni cioè per mettere insieme cioè il prodotto di questa cosa di questo ordine del giorno avreste fatto una miglior figura pur semplicemente chiedendo che si approvasse la mozione di Janelli che era una mozione onesta dal significato politico proposta da un rappresentante autorevole dell'opposizione rispetto al quale chiunque qui dentro l'avrebbe votato l'ordine del giorno va come dire a incistare questa vicenda perché ci volete mettere del vostro ma ce lo mettete in mala fede secondo me perché sulle questioni vere di questa città e di questa provincia ve ne siete tranquillamente per ragioni politiche avete abdicato al ruolo lei signor sindaco ha abdicato il suo ruolo il capoluogo della città che è il capoluogo della provincia allora chiudo adesso non so quali saranno gli ordini che mi impartirà il mio capogruppo a quale sono laicamente devoto però consentitemi di di esprimere un profondo rammarico ma no non è il termine esatto una sorta di dolore un trauer come direbbero i tedeschi giusto un trauer una triste scienza di cui presento alcune briciole all'amico questo è l'inizio con cui Teodoro Adorno inizia un fantastico saggio chiamato minima moraglia che tutt'altro ha che di minima nel vostro ragionamento ci sono solo cose minime deve concludere consigliere ho concluso grazie consigliere Piccinato grazie presidente da quanto ho ascoltato visto eccetera eccetera non ho ancora avuto modo di poter aver sottomano e leggere capire e sfruttare alcuni dati dal punto di vista economico che temo anche anzi che non ci siano affatto quelli che si paventano come vantaggi dal punto di vista economico sono tutti tutti un punto di domanda molto grosso perché quando se andiamo a vedere le tasse pagate dai cittadini nei comuni più grossi non c'è alcun tipo di risparmio anzi pagano più tasse di noi e probabilmente vivono anche in condizioni peggiori le nostre allora forse bisogna un attimo intuire che non è esattamente come ce la racconta qualcuno che non si va effettivamente ad andare forzatamente verso un miglioramento ma che è tutto da vedere da ristudiare da capire le scelte si possono fare e bisogna avere certo coraggio di farle ma ci vuole anche l'intelligenza di poter fare perché qui io vedo delle parole ma non vedo uno studio vedo degli intenti sì alcuni lo devo lì altri meno perché non li condivido certo tutti quando si parla di andare verso risparmio lo condivido quindi garantire al cittadino una maggior libertà personale lo condivido ma quando si parla invece di andare ad annacquare la storia andare a complicare la burocrazia da altri punti di vista per il cittadino allora no non lo condivido prima stavo guardando casualmente l'organizzazione che c'è per esempio nel comune di Verona degli sportelli eccetera del comune anche lì che è una città insomma più grande sicuramente della nostra ma non certo quella metropoli che potrebbe essere Rio de Janeiro insomma che ha tanti sportelli sparsi nel proprio territorio che possono essere quasi assimilati a dei municipi che abbiamo noi con i nostri comuni soltanto che ha una struttura territoriale molto più ristretta quindi a questo punto se nulla deve cambiare perché farla cambiare e quindi porre i cittadini ad uno sforzo di comprensione di quello che accade molto grosso e a dei disagi che inevitabilmente vanno incontro probabilmente anche dei costi riorganizzativi che poi non verranno rimontati dal risparmio che probabilmente nemmeno ci sarà quindi in tutto questo bisogna essere molto chiari non bisogna illudere i cittadini che le cose andranno bene perché non c'è alcun dato empirico che sia effettivamente così allora se si pongono le cose da un punto di vista razionale riorganizzazione è un conto se si fa un taglio che poi non ci sarà se si propone un taglio che poi non ci sarà è un'altra questione riguardo all'ordine del giorno che è stato presentato e firmato vedo a larga maggioranza di cui veniamo a conoscenza qua oggi devo dire che fate un'affermazione che per me è alquanto sconcertante dite la situazione economica e finanziaria ha come noto ridimensionato fortemente le risorse disponibili e di questo hanno pesantemente risentito gli enti comunali ai quali i cittadini ci rivolgono per primi per trovare una prima risorsa e sostegno cioè date risposta e sostegno cioè date una grande valenza ai municipi e cosa fate li tagliate cioè siamo nell'ottica di tagliarli beh dico è una grande risposta effettivamente proprio a favore dei cittadini per quanto riguarda il punto di vista della storia anche qua pian piano si va verso il diluire la storia se si fanno tutti i passaggi per carità può essere anche un bene chi lo sa io penso che invece la storia vada riscoperta e rivalutata soprattutto in un paese come l'Italia che potrebbe vivere esclusivamente di turismo quindi faremo un gravissimo danno al nostro territorio ma qualcuno preferisce dare il soldi alle banche e allora ben venga insomma andiamo avanti in questa strada un'altra cosa molto importante da dire è quella che si perde dal mio punto di vista potere contrattuale nei confronti degli enti superiori perché ci sono poche persone che poi eventualmente governerebbero perché perché le minoranze organizzate in piccoli gruppi territoriali hanno molto più peso vediamo quello che avviene in Trentino sul Tirol Volspartai ha molto più potere e peso di quello che ha una regione più grande e quindi stiamo andando in un senso che è totalmente l'opposto di quello in cui si dovrebbe andare dal mio punto di vista quantomeno mentalmente dopo nei fatti se ne può discutere ci sono alcune questioni positive e altre no ma quello che è importante da dire è che deve essere chiaro che i cittadini in questo senso vengono presi per il naso da questo tipo di risposte che si vogliono portare perché non sono risposte ma sono problemi aggiuntivi si rischia di dare problemi aggiuntivi ai cittadini facendoli pagare anche il costo poi per quanto riguarda qua la solita c'è la solita questione di attrarre i fondi europei ma vogliamo dirlo che i fondi europei sono tasse nostre questo deve essere chiaro perché nessuno di noi metterebbe in discussione che i soldi che piovono dallo Stato non siano i nostri perché nel caso dei fondi europei qualcuno pensa che siano gratuiti sono soldi nostri deve essere chiaro questo che mettiamo noi che paghiamo il doppio di quello che ci ritornano e anche questo non sento con forza da alcuni esponenti dire che quei soldi dovrebbero tornare a noi e che probabilmente meriterebbero anche di essere spesi in maniera migliore rispetto ad altre questioni che evito in questa sede di richiamare ma che nei giorni scorsi ho avuto modo di criticare sui giornali quindi bisogna intanto fare uno studio più approfondito dopodiché si può discutere in maniera più serena e sensata perché dal mio punto di vista qui è politichese e basta grazie grazie consigliere Piccinato consigliere Freschi prego scusate comunico al consiglio che è stato presentato un ammendamento da parte del consigliere Giannelli ed è un ammendamento al seguente contenuto chiede di aggiungere la parola Sanquirino dopo rovere di impiano pertanto sia nelle premesse dove si parla a un certo punto al punto 4 che il nostro territorio alla luce delle realtà produttive e culturali è sicuramente composto da Pordenone ormai senza soluzioni di continuità con Cordenon Sporcia e Rovere di Impiano e Sanquirino e nel dispositivo impegna il sindaco e la giunta a mettere in essere tutte le iniziative necessarie a verificare la possibilità di un accorpamento tra il comune e Pordenone e dei suoi amati comuni viciniori Cordenon Sporcia Rovere di Impiano e Sanquirino non lo faccio distribuire perché penso sia abbastanza chiaro per tutti grazie prego grazie presidente bene questa sera noi trattiamo questo argomento che riguarda la mozione Giannelli e l'ordine del giorno presentato da più firmatari ordine del giorno al quale mi sento di dire che partecipa anche la consigliere Daniello poco fa mi diceva che sottoscriveva questo documento poi lo dirà magari lei nel suo intervento comunque perché siamo arrivati a questo a questo ordine del giorno abbinato diciamo alla mozione non siamo certamente arrivati per le ragioni che diceva prima il consigliere Dalmas cioè si aboliscono le province oppure diventano enti di secondo grado per cui pensate di mettere insieme i comuni questo è un ragionamento che parte da molto lontano perché già nei banchi di questo consiglio si discuteva di questo argomento alla fine degli anni 80 inizio anni 90 ma perché perché si aveva la chiara convinzione che i comuni dovevano andare oltre i loro perimetri ma non per un discorso di annessioni territoriali ma per un discorso di mettere insieme servizi mettere insieme idee mettere insieme progettualità vedete le distanze che intercorrono tra i nostri comuni sono le distanze che si poteva percorrere a piedi sulle strade del Medioevo nelle ore di luce in quanto erano distanze estremamente ravvicinate chi diceva prima che si poteva andare da Pordenone a Cordenonso a piedi mi pare che lo diceva proprio lei consigliere Dalmas nel giro di 10 minuti e un quarto d'ora questi sono le dimensioni le distanze dei nostri comuni ma perché perché la storia italiana è fatta di questo è fatta di comuni ravvicinati se noi ci mettiamo ad osservare da uno dei balconi naturali del nostro territorio non so se saliamo verso Asiago oppure se saliamo anche nel nostro Friuri verso Clausetto e osserviamo dall'alto la pianura ci rendiamo conto che non c'è discontinuità che i comuni sono molto ravvicinati sono molto vicini pertanto alla luce di questo rispettando l'identità di ciascuno le storie a cui faceva riferimento il consigliere Gianelli prima ciò non implica che non possiamo mettere insieme dei servizi non possiamo mettere insieme delle sinergie perché ragionare insieme aiuta a fare delle scelte migliori sto pensando il nostro comune sta lavorando sul piano regolatore generale sta lavorando sul piano della mobilità ma non sarebbe stato molto più interessante poter ragionare su un piano regolatore generale inglobando in qualche modo nel ragionamento i cinque comuni a cui abbiamo fatto riferimento stesso discorso vale per la viabilità e se aggiungiamo a questo c'è il discorso dei servizi noi abbiamo delle prove in piedi di sperimentazione già attuate da qualche anno con il comune di Roveredo per quanto riguarda ad esempio il servizio relativo alla vigilanza urbana oppure per quanto riguarda alcuni uffici specificatamente di natura amministrativa o contabile ma non è solo questo secondo me è andare un po' oltre cioè riuscire a fare dei ragionamenti che vanno al di là dei propri confini riuscire a fare dei ragionamenti in cui io mi pongo nei panni del comune di San Quirino io comune capoluogo riesco a ragionare vedere i problemi da quell'ottica e non dalla mia ottica di comune capoluogo solo nel momento in cui avrò fatto questo sforzo riuscirò a capire che certe situazioni e certi servizi possono essere messi insieme perché devono andare non nell'ottica che diceva il consigliere Peccinato ma nell'ottica opposta capisco la sua preoccupazione quella di dare il servizio non di creare un disservizio questa deve essere l'attenzione che noi poniamo ai problemi dei cittadini ma non è sul fatto che andremo ad abolire o ad dimensionare le province su questo ci sarebbe da fare un altro ragionamento perché si è pensato ai quattro livelli dello Stato comune provincia regione Stato e non si è pensato invece che in mezzo ci sono tutta una serie di enti entuccoli associazioni consorzi eccetera che andrebbero in qualche modo razionalizzati come primo passo prima della soppressione o del ridimensionamento delle province avrei pensato che forse tutti i consorsi che ci sono in ambito provinciale potevano essere in qualche modo passati sotto un'unica amministrazione e forse la provincia in un ragionamento di area vasta avrebbe potuto conglobare tutti questi servizi sto pensando alle ATER che senso ha che le ATER siano indipendenti da un ragionamento globale in cui poter fare invece delle sinergie di territorio le ATER andavano in qualche modo poste sotto un cappello era quello provinciale stesso discorso per i vari consorzi no voi avete posto sotto un cappello regionale non provinciale no no io sto facendo un altro ragionamento consigliere Dalmas al quale lei non mi sta seguendo io sto dicendo che prima del passaggio sulle province era il caso di togliere tutti gli enti e intuccoli che esistono a livello provinciale questa è un'altra cosa poi arriviamo a una razionalizzazione maggiore perché sono anche del parere che le cose si devono fare anche per gradi perché per gradi forse vengono maggiormente capite noi invece lasciamo no io sono d'accordo per il dibattito però purtroppo non possiamo farlo se non a compartimenti stagni ognuno fa il suo intervento e gli altri poi sanno la fortuna di intervenire dopo possono intervenire su quello di prima altrimenti non è così allora il ragionamento che volevo fare era appunto questo non sono qui per il referendum pro contro le province ma dico c'erano dei passaggi che probabilmente dal punto di vista razionale andavano fatti andavano fatti cercando di razionalizzare maggiormente la spesa ponendo sotto un unico ente di area vasta un coordinamento ed una regia questo non è avvenuto speriamo che avvenga in futuro con altri passaggi il discorso dell'unione dei comuni ma è un discorso che sta avvenendo ormai regolarmente in tutta Europa è un discorso che sta avvenendo in Germania sta avvenendo in Francia sta avvenendo in Belgio dove la ricollocazione dei comuni permette in qualche modo di affrontare situazioni e spese e aspetti finanziari in chiave completamente diversa abbiamo degli esempi anche in Italia seppur limitati a determinate zone e io dico perché non possiamo pensare anche noi di fare questo tipo di ragionamento per cui mi pare che l'ordine del giorno e la mozione vadano in questo senso io capisco la sorta di dolore che sente il consigliere Dalmas e nel vostro ragionamento dice che siamo alle cose minime beh è meglio essere alle cose minime piuttosto che essere alle cose nulle perché non mi pare che gli anni precedenti ci abbiano dimostrato una grande dinamicità nelle scelte se siamo arrivati a questo punto tutti criticano Monti ma Monti è arrivato in un determinato momento in un certo contesto in una certa situazione poi siamo tutti scontenti benissimo ma chiediamoci perché è arrivato forse questa domanda l'abbiamo già dimenticata siamo labili un po' da questo punto di vista ma possiamo essere critici verso tutto però le domande dobbiamo anche farcele se siamo arrivati a questo punto ci sono determinate situazioni che ci hanno portato allora su queste situazioni cerchiamo di intervenire siamo forse in un momento difficile in un momento particolare bene ma cerchiamo di sfruttare anche questo momento per ideare un qualcosa che ci possa andare in qualche modo a superare una situazione che rischia di essere di incancrenirsi per cui io penso che mettere attorno a un tavolo le amministrazioni comunali e fare un ragionamento insieme che non significa l'abolizione dei comuni per crearne uno solo si può arrivare a questo anche però il passaggio deve essere in qualche modo condiviso è un passaggio che deve trovare il consenso delle persone che deve trovare soprattutto alla luce di quelli che sono i risultati finali di un obiettivo che ci si pone di un progetto che sia davanti si possono trovare delle soluzioni interessanti per tutti però bisogna anche rischiare bisogna avere l'ardire di rischiare perché c'è il rischio che altrimenti carichiamo di criticità ogni progetto per rimanere come eravamo prima senza avere diciamo la forza la fantasia di inventare qualcosa di nuovo che può essere non la soluzione ma può essere un passaggio che ci permette di fare altri ragionamenti ecco sull'ottica di questo io penso che uno sforzo vada fatto e mi piacerebbe mi sarebbe piaciuto ad esempio che uno sforzo fosse stato fatto si è cercato di farlo per quanto riguarda il PRG io ho partecipato deve concludere consigliere dieci minuti sono scaduti ho partecipato alle riunioni della formazione del PRG e si è parlato e ho partecipato alle commissioni che parlavano di area vasta e ho avuto modo di capire che all'interno di un ragionamento di area vasta si riescono a capire e a vedere i problemi in un'ottica diversa da quella del proprio stretto comune grazie grazie consigliere Freschi consigliere Pasut prego grazie presidente brevemente per per motivare la scelta di condividere questo ordine del giorno che capiamo e giustifichiamo anche io non penso che perché lo propone il comune di Pordenone i cittadini dei comuni limitrofi rinuncino alla loro storia alla loro purglielesità o cordenonesità eccetera perché diciamo noi di fare questa operazione però a me piace pensare il bello della politica il brivido della politica è appunto quello di anticipare possibilmente con intelligenza le cose e parto dall'affermazione del mio amico collega Freschi che insomma detto da lui che bisogna ardire di rischiare ardire di rischiare è un buon è un buon inizio nel senso che ardire di fare una proposta di questo genere non per fare di di alcuni gusti tutta una marmellata ma per immaginare una storia che ci sta venendo incontro al galoppo e della quale probabilmente noi conosceremo gli effetti soltanto se abbiamo il coraggio di ardire come dice il collega Freschi ecco in tutto questo vedo come dire la capacità di individuare in un percorso di un ragionamento su questo su questo progetto che non vuol dire ripercorrere la storia perché è vero diceva bene prima il consigliere Giannelli quando si si è parlato da tempo che si parla di un conurbamento adesso non ricordo se si chiamasse Pujac il piano di unità intercomunale dell'area Pordenonense ecco era il 1970 abbiamo parlato abbiamo discusso non siamo arrivati a nulla allora io credo che il tempo di discutere di lanciare novità sia non solo giunto ma anche superato per cui da questa iniziativa che abbiamo condiviso devo dire però con alcune precisazioni che il collega Marco Salvador ha anche fatto ma che voglio qui ribadire per quanto ci riguarda ecco dovrà essere sicuramente un processo che si allontana dai fenomeni di burocrazia ulteriore a quella che c'è già che metta in campo processi di coinvolgimento ma parificati veri non noi non possiamo dettare legge da nessuna parte e andare a comandare a casa di altri questo dobbiamo averlo chiaro che che invitino a processi di autogoverno perché sennò diventano le circoscrizioni in area macro intercomunale cioè immaginiamo che siamo noi a comandare gli altri se ne stanno zitti e non contano niente questo va fugata subito questa se a qualcuno passa in mente una roba del genere che non debbano intervenire leggi regionali ad hoc per gestire questa cosa qua che sì sono cose che abbiamo già visto che hanno creato gli strascichi che possiamo vedere adesso che sia un processo condiviso che coinvolga veramente i cittadini che li renda partecipi lei dicevi bene prima di coinvolgere proprio i cittadini dei comuni quindi ma che sia un progetto convincente deve essere un progetto convincente ma non che convince noi perché l'abbiamo proposto per primi perché la tentazione del collega Dalmas di dire insomma siete arrivati per sminuire la mozione di Giannelli eccetera potrebbe anche lasciare ma io non credo se c'è se c'è un atteggiamento di genuina volontà di come dire di superare quelle che sono i vecchi schemi della vecchia politica perché la storia ci sta ci sta annientando rispetto a queste cose ci sono cose che nessuno si immaginava che si facessero e invece adesso si fanno allora io ritengo questo nostro atteggiamento un atteggiamento di persone che si rendono conto che il mondo sta cambiando e che non vogliono arrivare quando il mondo è già cambiato ma possibilmente poter dire qualche cosa io ricordo che all'inizio della prima amministrazione della seconda amministrazione del precedente sindaco si era parlato e si sono incontrati i vari assessori in un incontro dove si parlava della città da 70-80 mila 70-80 mila persone con il coinvolgimento dei quartieri si diceva il coinvolgimento dei quartieri a distanza di pochi anni di pochissimi anni abbiamo visto il trasformarsi di una città dove noi cinque anni dove noi ci stiamo svuotando dove le nostre case rimangono case vuote dove noi per riconfigurare una città saremo costretti a demolire le case per creare spazi abitativi nuovi in una realtà appunto che cambia allora dobbiamo tenere conto nel lanciare questa iniziativa che io la trovo nobile se è super condivisa super partecipata e soprattutto se ha la capacità di creare di disegnare con la partecipazione di tutti un progetto che convince che questo si può fare per cui non non un ripercorrere strade vecchie ma tentare di immaginare strade nuove che conducano conducano verso un'amministrazione che si deve accorgere che le cose stanno cambiando non è più accettabile che da noi spopolano le aziende chiudono e la pubblica amministrazione rimane ferma devono comprendere tutti questo questo processo necessario vitale perché si riconduca si riconduca a come dire a un modo di organizzare la vita la vita civile che tenga tenga presente le condizioni di tutti io lo dico sempre ogni volta qua dobbiamo lanciare il cuore oltre l'ostacolo perché se noi restiamo fermi dietro l'ostacolo restiamo poi con le cose che ci verranno dette da altri ci daranno altri le disposizioni sarà la storia che ci dirà così si deve fare possibilmente anticipiamo questo cammino ecco noi ce la possiamo fare noi condividiamo questo ordine giorno l'abbiamo condiviso però i punti che ho voluto sottolineare devono essere presi in considerazione e lei l'aveva già anticipato prima consigliere Salvador grazie grazie consigliere consigliere Piccin prego sì grazie presidente su questa mozione e su questo ordine del giorno che a vedere così di primo acchitto dovrebbero in qualche modo risolvere tutta una serie di problematiche che si sono create e stratificate in molti anni di gestione amministrativa politico amministrativa che proviene da tutto l'arco costituzionale io nutro dei seri dubbi nel senso che non dico che siano sbagliati a priori e non penso nemmeno che la filosofia che ha così che hanno seguito i colleghi nel redigere questi documenti fossero sì siano sbagliati dico però una cosa anzi più di una in poco tempo e il collega Giannelli ha presentato una mozione per conto del anzi firmata da lui dove semplicemente dice insomma cerchiamo di mettere impegniamo il sindaco la giunta mettere in essere tutte le iniziative necessarie a verificare la possibilità di accorpamento tra questi comuni e per accorpamento insomma non si capisce bene che cosa si vuole fare e credo che quando invece si parla di queste cose sia importante capire che cosa si vuole fare dove si vuole arrivare l'ordine del giorno no che mi è stato per onestà intellettuale dico sottoposto prima della seduta prima della discussione della mozione ma non mi è stato sottoposto per la condivisione come ovviamente ritiene giusta giusto la maggioranza e vedo che qui hanno insomma collaborato per la stesura e dato il loro contributo le forze civiche presenti in questo consiglio comunale quindi dice questa è una questione nostra e chi rappresenta un partito politico perché non vede né PDL né Forza Italia né Lega Nord non li vogliamo non ci interessano allora vedi Salvador è legittimo questo è legittimo però se tu vuoi che una cosa venga condivisa e votata bisogna avere almeno come dire il buon gusto di presentarla il giorno prima e di dire di spiegare le cose quindi non è che perché si vuole fare come i bambini allora si punta i piedi e non si vota questo ordine del giorno secondo me questo è valutato come una come dire è un correre ai ripari da parte della maggioranza su una mozione che è arrivata prima perché bisogna riconoscere a Giannelli che è stato come dire nel settembre del 2012 lui aveva visto avanti oggi arriviamo a discutere un documento che è di allora che lui aveva in qualche modo pensato allora la maggioranza ne condivide in qualche modo i contenuti e dice beh insomma alla fine in qualche modo interveniamo anche noi e ci mettiamo il cappello anche noi e li chiamiamo unione dei comuni e io che non mi ricordavo più il testo unico sono andata a vedermelo e dice insomma cosa sono le unioni dei comuni allora è bene capire come dicevo prima che cosa si vuole fare e di fronte a documenti di questo genere io francamente non ho nulla di contrario ma ma non voto nemmeno a favore perché perché un disegno un percorso chiaro non c'è e dico perché allora qui si parla di altri comuni allora le amministrazioni vanno e vengono sono cambiati alcuni amministratori la prima domanda che ho fatto questi sono d'accordo sì sì i sindaci sono tutti d'accordo ma perché dobbiamo essere noi quelli che per primi approvano questo tipo di documento l'intenzione di Giannelli mi stava bene ma noi invece dobbiamo organizzare fare e tirare avanti la questione si cita inoltre nell'ordine del giorno questa delibera del 31 ottobre 2013 la 2017 della attuale giunta regionale che ha proposto le linee guida per il riordino del sistema regionale e che prevede tra l'altro avete fatto proprio bene a mettere tra l'altro la trasformazione dell'ente provinciale in ente di secondo grado e sostegno a nuove forme di sinergie tra i comuni avete visto che cosa prevede quelle linee guida oltre a queste ci sono un bel po' di punti dice proprio quello che dite voi le nuove sinergie tra gli enti locali il futuro assetto delle province con l'eliminazione dell'elezione diretta già attuato la modifica della disciplina di rango costituzionale che renda attuabile la soppressione delle province fatto attraverso la modifica dello statuto o la legge voto scusate non riesco a sentirmi se posso grazie la riforma del sistema della finanza locale volta a riaffermare l'autonomia finanziaria degli enti locali la revisione e la riforma del consiglio delle autonomie locali la riforma dell'ordinamento del lavoro pubblico nel contesto del comparto unico il grande investimento nelle nuove tecnologie per rendere effettivo il processo di semplificazione amministrativa e poi chiude con un capitolo generale un punto generale sul ripensamento della regione allora non penserete mica che sulla base di un documento come questo di linee guida di massimi principi di quello che vuole perseguire questa amministrazione regionale lecitamente perché fa parte evidentemente del suo programma elettorale noi qua questa sera mettiamo un punto chiaro e importante per dire sì da Pordenone è partita la rivoluzione per l'unione dei comuni o per la fusione dei comuni per le province si è fatto un DDL si è fatto una legge voto per il sistema delle autonomie locali questa riforma del sistema delle autonomie locali per le nuove sinergie l'assessore Panontina intasca la riforma io non l'ho vista l'ho chiesta ma siccome sono di opposizione giustamente quando l'atto sarà pubblico arriverà anche a me allora io questa sera qui non mi impegno nella maniera più assoluta nel dire sì voglio tutti i comuni assieme li mettiamo tutti quanti perché non lo so minimamente che cosa ha intenzione di proporre la regione e ve l'ho anticipato prima nel tavolo di là potrei essere d'accordo con quel tipo di riforma che potrebbe in ogni modo superare tutto ciò che noi diciamo questa sera e francamente una dichiarazione di intenti che potrà avere un valore politico sicuramente non sarà indispensabile per quella che sarà l'azione amministrativa e politica della regione ecco perché non so se il gruppo se ci sarà qualche dichiarazione di voto in difformità dalla mia rispetto all'interno del gruppo perché forse c'è qualche sensibilità come dire un pochino più accesa personalmente mi asterrò su entrambi i documenti grazie grazie consigliere piccini bene nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiusa la discussione passiamo alle dichiarazioni di voto prego signor sindaco cerco di la discussione è stata lunga gli spunti moltissimi ma alla fine cosa ci siamo detti tutti che bisogna farlo e che si si parta da un atto come questo che è necessariamente diciamo di visione politica e non ci sia già una lista della spesa dettagliata nell'ultimo centesimo lo giudico sinceramente ovvio io credo che quello che è stato letto abbia la stessa genericità in termini di indicazione di quello che noi abbiamo descritto nel nostro ordine del giorno che cosa quando voi discutete di queste cose così tra amici al bar dipende dalle occasioni guardando la partita la cosa che tutti si aspettano è che da questo processo di unione dei comuni noi si risparmi è vero oppure no? sì perché ci sono degli esempi con cui noi siamo venuti in contatto in cui questo lo si può toccare con mano li abbiamo portati qua ce ne sono almeno due di unione dei comuni che possono essere tranquillamente usate come campione come modello la nostra abilità sta proprio qui sono assolutamente d'accordo nel coinvolgimento e nella partecipazione misureremo la reale volontà dei sindaci più o meno nuovi visto che tutti si erano dichiarati da tempo favorevoli a cominciare questo viaggio penso proprio prendendo come spunto l'organizzazione di questo consiglio comunale in cui tutti noi parteciperemo sarà una dichiarazione effettivamente di presenza e di volontà politica quella poi immagino che i temi che verranno dibattuti se non siamo attenti nel fissare una scaletta possono essere i più generici ma sarà il modo di misurare effettivamente se dal punto di vista dei sindaci e dal punto di vista delle rappresentanze che ci sono nei vari consigli comunali questa scelta di tipo politico di iniziare in modo attivo una l'unione dei nostri comuni è qualche cosa di cui discuteremo ancora per mesi senza fare nulla o al contrario definiremo le prime due azioni da cominciare quello che ci siamo anche detti è che se da un lato gli aspetti tecnici tutti li diamo per scontati mettere insieme gli uffici eccetera il vero motivo della discussione sarà la identità che daremo a questa nuova città l'identità sarà fondamentale proprio che attraverso la partecipazione ci dia quel peso politico da città grande quale siamo perché siamo una città di 100.000 abitanti con un peso in regione che sarà molto più ce l'hanno provato proprio quelli degli unioni con cui ci siamo confrontati o che sarà molto maggiore di quello che abbiamo oggi e che ci consentirà di far fronte in modo più incisivo alle difficoltà che abbiamo e così a forza di essere frammentati ci bastonano perché siamo frammentati quindi questo sarà una conclusione semplicistica beh lo vedremo il fatto di andare avanti su un'ordine del giorno di questo tipo ci dà a noi e a me in particolare sicuramente un mandato per presentarsi alle altre amministrazioni con cui già lavoriamo nell'ambito socio-sanitario per alla fine accelerare un processo che tutti si attendono grazie per il dibattito e per i contributi grazie dichiarazioni di voto del Consigliere del Ben prego grazie il mio sarà un brevissimo intervento che riconferma il voto favorevole sia alla mozione Gianelli compresi gli amati comuni che lui ha usato in modo provocatorio e anche all'ordine del giorno che ha un'ampia adesione e lo dico convinto per due o tre motivi uno quando abbiamo fatto una proposta su gli emendamenti del programma di questa amministrazione avevamo proposto un'iniziativa che tenesse insieme i comuni di Porcia Pordenone e Cordenons evidentemente fatto da uno che ha partecipato all'assemblea del Puglia che vive ed è fortemente integrato a Porcia e fa l'amministratore a Pordenone non c'era nessuna paura che la messa insieme di più comuni possa ledere identità culturali storiche eccetera perché ognuno porta il proprio bagaglio e costruiremo insieme la parte del futuro quindi un elemento sicuramente positivo e penso che l'ordine del giorno che andiamo ad approvare sia una linea di tendenza non una cosa che dovremmo a mio avviso difendere in maniera assoluta siamo parte di un'organizzazione di enti locali è ragionevole che fra un po' e qua anche dal Massa aveva ragione ci potrà essere un ripensamento della sanità è ragionevole che gli ambiti sanitari possano variare rispetto a quelli che sono adesso ma per noi l'obiettivo era quello di dire che il distretto sanitario l'ambito socio-sanitario possono essere identità territoriali sulle quali noi costruiamo identità sociali culturali eccetera per cui l'approvazione di questo ordine del giorno va in questa linea e se anche fosse premonitore per una modifica dei comuni che partecipano in più in meno il voto è comunque favorevole perché quella è la strada necessaria per costruire quello che lo dico da 12 anni fa di uno che era dei fondatori di una regione in comune è sicuramente un rapporto diretto fra regione e comunità locali per costruire quel benessere quella sicurezza sociale che insieme un'attività produttiva può sicuramente garantire futuro per noi e per le generazioni che verranno dopo quindi il dottor Charmè ha firmato l'ordine del giorno e insieme noi approveremo anche quello che è la proposta di Giannelli ex gruppo misto ma oggi rappresentante per dire in consiglio comunale di forze nuove ma per questo sicuramente positivo di nuove forze non c'entra niente no per dire di nuove forze che credo che quello doveva essere fatto va bene grazie consigliere intanto glielo ho detto consigliere Piccinato prego grazie presidente allora io annuncio che voterò con una stensione per vedere quello che insomma poi sarà lo sviluppo eccetera eccetera della mozione di Giannelli che può avere qualcosa di assolutamente interessante da proporre chiaramente deve essere qualcosa di costruttivo e quando c'è qualche dibattito che può portare reale vantaggio per i cittadini bisogna sempre guardare e interessarsi da vicino per quanto riguarda invece l'ordine del giorno presentato voterò contro perché è totalmente fumoso e anzi dal mio punto di vista un grave spreco di tempo perché qui si parla di fare un consiglio comunale a 5 perché si parla di fare un percorso faraonico io invece chiedo eventualmente che si possa guardare le cose da un punto di vista più pratico ci sono si faccia uno studio si porti qua una proposta concreta e su quella si può eventualmente discutere in maniera più appropriata tutti distingo rispetto alle problematiche alle preoccupazioni che ho riguardo al resto le ho già fatte prima io non sono totalmente convinto che un'operazione di questo tipo porti solo vantaggi quindi attendo di vedere meglio le cose grazie grazie consiglio Piccinato dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto pertanto passiamo alle votazioni la procedura prevede la votazione prima dell'ordine del giorno dopodiché dell'emendamento presentato dal Consiglio Giannelli e dopo della mozione pertanto pongo in votazione l'ordine del giorno Unione di Comuni Pordenone Cordenon Sporcia Rovered in Piano San Quirino firmato dalla lista Il Fiume Partito Democratico Vivo Pordenone Il Ponte Lista Civica del Ben Nuova Pordenone Gli caro aperte le votazioni Prego Poteva fare la dichiarazione prima non è che posso Vabbè comunque anche anche il gruppo il gruppo misto la consigliera Daniello Bene dichiaro aperte le votazioni Silenzio Dichiaro chiuso l'operazione di voto L'esito della votazione è seguente presenti 35 votanti 35 maggioranza 18 favorevoli 32 contrari 2 astenuti 1 l'ordine del giorno è stato approvato passiamo ora all'emendamento l'emendamento presentato dal consigliere Giannelli con il quale aggiunge la parola Sanquirino dopo la parola Roveredo in piano votiamo l'emendamento dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è seguente presenti 35 votanti 35 maggioranza 18 favorevoli 34 contrari nessuno astenuti 1 l'emendamento viene approvato pongo ora in votazione la mozione del 5 settembre 2012 numero 31 accropamento comuni dichiaro aperte così come emendata dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuse le votazioni l'esito votazione è seguente presenti 35 votanti 35 maggioranza 18 favorevoli 32 contrari nessuno astenuti 3 la mozione viene approvata bene dichiaro chiusi i lavori il consiglio verrà riconvocato a domicilio buonanotte a tutti